Clarissa, non comunicando con i suoi familiari, aveva imparato a nascondere sofferenze ed emozioni, ma in quei giorni di via vai di persone si rese conto che forse qualcuno si stava interessando a lei, non per farle del male come accadeva sempre, e la cosa la stimolava ancora di più verso il negativo. La ragazza così aveva iniziato a guardare video su internet e leggere articoli che parlavano di dolore e sofferenze varie. Per Clarissa era un modo per difendersi da tutto ciò che la circondava e da quel poco di attenzione e amore che stava ricevendo. Nella sua mente le persone che tentavano di approcciarsi a lei, anche solo per esserle amiche, erano una minaccia. Aveva perso la fiducia nei confronti degli altri, anche gesti dolci e belli, per la ragazzina erano fonte di aggressione verso la propria persona. Il bullismo la stava distruggendo. Lei esprimeva il suo dolore solo nel suo diario e alle volte sul suo corpo, infliggendosi piccoli tagli sui polsi, ma non pensava di aver attirato l'attenzione di qualcuno e il sospetto che Sabrina si fosse accorta del suo autolesionismo l'affliggeva. Iniziò a scrivere il diario quando era molto piccola. Per la precisione quando aveva imparato a scrivere e ancora frequentava la scuola del paese da dove proveniva. Fece credere alla madre che le serviva un nuovo quaderno che poi utilizzò per scrivere il suo primo diario segreto, che decise di chiamare Le mie confessioni di bambina. Lì iniziò a scrivere i suoi pensieri e le sue sensazioni. Una volta trasferita lo arricchì pure con la sua prima infatuazione per Michael, quel bambino dagli occhi di ghiaccio, che la coinvolgeva così tanto e che la faceva soffrire in ugual modo. Anche se Michael la trattava sempre male, lei si era preso una cotta per lui. Passarono prima i giorni, poi i mesi e infine gli anni. Dal giorno dell'inizio della nuova scuola e i suoi sentimenti verso il bambino, ormai ragazzo, non erano mutati. Questo dualismo di emozioni la faceva andare avanti. Era una delle poche ragioni per cui valeva la pena andare a scuola, vederlo ogni giorno, anche se accanto a Valentina. Dal canto suo a Michael, anche se a Clarissa sembrava senza cuore, nutriva un grandissimo rispetto verso di lei. Questo fin dal primo giorno di scuola, infatti. Quando era assente, o anche se ritardava solo per qualche minuto, andava sotto casa di lei oppure si informava con i vicini che conoscevano i suoi genitori. Perché dopo tutto si preoccupava sempre per lei. Michael davanti ai suoi amici era un bullo, ma dentro di lui in realtà provava sentimenti differenti. Clarissa gli interessava come persona, gli piaceva molto il suo carattere, lo faceva divertire il fatto che quando la prendeva in giro lei ci rimaneva male per la sua permalosità e, per questo motivo, spesso e volentieri la provocava fino a farla arrabbiare e alcune volte piangere. Non lo faceva con cattiveria perché provava rispetto e affetto, ma non poteva e non voleva farlo notare. Perché ormai la sua fama era quella di essere un bullo e non poteva essere carino verso quella ragazzina che negli anni si stava trascurando sempre di più, sia nel vestire, poiché utilizzava abiti poco femminili e trasandati, sia nei confronti di se stessa, poiché teneva sempre di meno al suo aspetto fisico, cosa a cui Michael guardava molto. Lui e il suo gruppetto si divertivano troppo a prenderla in giro e a farla sentire a disagio. Non voleva che si sapesse che lui tenesse a lei e i pochi che conoscevano il suo segreto non osavano parlarne. Tutti infatti avevano paura di lui. Un giorno, arrivata a scuola, Clarissa vide di fianco all'ingresso una bellissima e lucidissima moto nera e notò che alcuni dei suoi compagni di classe la stavano commentando. Pensando che la moto appartenesse a uno dei bulli, proseguì per la sua strada cercando di non farsi notare. Una volta entrata nell'edificio sentì confabulare altri suoi compagni. Girava voce che avessero un nuovo insegnante d'italiano. Entrata in classe trova un ragazzo di spalle alla lavagna, alto, con fisico palestrato, capelli castano chiaro, vestito alla moda, con firme importanti, jeans strappati, felpa e sulla sedia un giubbotto di pelle da motociclista. Sembrava che il ragazzo stesse scrivendo qualcosa alla lavagna e Clarissa, pensando fosse uno dei soliti montati che prendevano in giro i professori, non facendo caso né alla statura né alla corporatura, si sedette al proprio posto senza nemmeno salutare come ormai faceva da tempo. Fra gli sghignazzi e le risatine dei presenti, una volta suonata la campanella ed entrati tutti gli studenti, il nuovo insegnante si girò. Aveva un'espressione serena, sorridente e divertita. Forse dovuta dai visi dei ragazzi alla sua vista, oppure dai commenti che aveva sentito durante la loro entrata in classe, durante quei minuti prima del suono della campanella, in attesa di girarsi, gli veniva da ridere, ma si trattenne. Voleva provocare un effetto sorpresa e a quanto pare gli era riuscito piuttosto bene. I ragazzi infatti rimasero tutti sbigottiti e in silenzio per qualche istante, con occhi e bocca spalancati, soprattutto Clarissa che si sentì una grandissima maleducata per non aver salutato. Dopo le sue dovute presentazioni, alcune chiacchiere e aver ringraziato per i complimenti riguardanti la moto. Subito dopo, l'insegnante diede ai suoi studenti un compito in classe dal titolo La mia vita finora, chiedendo loro di essere sinceri il più possibile, spiegando che per lui non era un semplice compito in classe, ma un modo per imparare a conoscerli e che, visto tutto il tempo che avevano a disposizione, avrebbero potuto fare un ottimo lavoro. Solo in quel momento i ragazzi appresero che avrebbero dovuto passare quattro lunghe ore con lui e pensarono che sarebbero state interminabili e noiose, come spesso accadeva con gli altri insegnanti. Clarissa non si lamentò e, anzi, ebbe l'ispirazione, come se qualcuno fosse entrato nella sua testa e nel suo cuore. Iniziò a scrivere pagine intense di emozioni, sentimenti e lati estremamente oscuri. Alcuni ragazzi, tra cui due fratelli, Michael e Matteo, terminarono il compito prima delle quattro ore. Così l'insegnante disse loro che, se volevano, nel frattempo potevano iniziare a fare i compiti che avrebbero dovuto eseguire a casa, mentre lui si mise a leggere i loro temi e quelli di altri. Quel giorno accadde una cosa inaspettata. Durante il compito in classe, Michael e Matteo, il capo dei bugli e il suo fratellastro, raccontarono la loro storia e fu una cosa sorprendente perché loro non erano ragazzi che parlavano volentieri della propria vita privata. Di solito avevano sempre evitato per non dover rispondere a domande imbarazzanti. Per Michael non sapere chi lo aveva concepito era fonte di imbarazzo. Sua madre aveva sempre evitato il discorso e per lui era diventato fonte di sofferenza nascosta. Non aveva piacere di raccontare che il padre di Matteo non era pure il suo vero padre, perché lui gli voleva molto bene e lo considerava il suo vero papà. Ed effettivamente nemmeno le loro fidanzate e le loro amiche di una vita sapevano nulla di quelle sfumature sul loro passato. Quel giorno decisero di essere sinceri e di fidarsi di quel giovane insegnante ed iniziarono i loro racconti. Michael e Matteo sono fratellastri. I loro genitori si sono conosciuti qualche anno prima in un villaggio marittimo e dopo essersi frequentati di aver convissuto per un po', si sono sposati e poi trasferiti lì. I loro amici non sapevano nulla del loro passato, infatti Michael e Matteo si erano sempre rispettati e si volevano bene, come se fossero gemelli. La cosa curiosa è che erano nati lo stesso giorno e lo stesso mese. Infatti tutti, a scuola, erano convinti che i due ragazzi fossero gemelli etero zigoti. La cosa colpì molto l'insegnante, perché oltre ad essere una storia carina, i due erano stati sinceri. Entrambi scrissero la stessa vicenda. Michael e Matteo avevano un'altra caratteristica in comune, Clarissa. Entrambi parlarono dei sentimenti che provavano verso la ragazza. Piaceva da sempre a tutti e due, ma scrissero che non li avevano mai detto nulla. Il primo per mantenere la sua facciata da duro, il secondo per timidezza e rispetto verso il fratello. Naturalmente, oltre agli argomenti in comune, i tempi erano totalmente differenti, perciò l'insegnante non ebbe dubbi sulla sincerità dei ragazzi e non ebbe il minimo sospetto che si fossero copiati fra di loro. Un altro tema che colpì molto l'insegnante fu quello di Thomas. Il ragazzo per la prima volta si aprì. Scrisse che nemmeno la sua famiglia sapeva dell'argomento di cui voleva parlare e chiese di non dirlo a nessuno. Raccontò la vicenda a cui aveva assistito qualche anno prima a casa sua. Scrisse di quel cugino che lui adorava e che in un solo momento lo deluse, tentando di far del male a una sua compagna di classe e che a distanza di anni la ragazza evitava ancora di rivolgergli la parola se si trovavano da soli. Ma non fece il nome di Clarissa. L'insegnante si ripromise di provare a chiedergli maggiori informazioni, non sospettando cosa avesse dovuto affrontare veramente quella ragazza. Uscito dalla lezione e andato nella sala docenti per iniziare la correzione dei compiti rimanenti, vide che il tema di Clarissa era il più lungo in assoluto e decise allora di lasciarlo per ultimo. Un collega, dopo essersi presentato, chiese come fosse andato il primo giorno come insegnante della classe più problematica e scalmanata dell'istituto, ma lui, in modo divertito, si presentò e con il sorriso sulle labbra rispose che era andato tutto bene e che era sopravvissuto almeno alla prima lezione. Tornato serio, disse che gli piacevano quei ragazzi e che non aveva avuto difficoltà a gestirli, almeno in quel momento. Poi, scusandosi, riferì al collega che doveva correggere i temi assegnati durante la lezione. Mentre li correggeva fu molto felice di leggere che i ragazzi lo avevano ascoltato. Erano stati tutti molto sinceri. Ne corresse circa una metà scegliendo i più brevi, mentre i rimanenti se li portò a casa. Passarono alcuni giorni e il professor Rossi. Entrò sempre più in sintonia con i ragazzi. Persino i bulli lo adoravano. Ci sapeva fare. Oltre ad avere la laurea in materie umanistiche, li informò del fatto che era anche psicologo e che se avevano voglia di fare due chiacchiere potevano fermarlo tranquillamente dopo le lezioni o durante la ricreazione. Questo creò molto disagio a Clarissa, ma cercò di non farlo notare troppo. Per lei quella frase era come un'invasione della sua privacy, anche se non era rivolta solo a lei, ma a tutti i suoi compagni di classe. Clarissa non era più abituata ad avere qualcuno che era disposto ad ascoltarla nel momento del bisogno. Di conseguenza anche un'affermazione come quella fatta dall'insegnante per tutti, lei la percepiva in un modo errato e la faceva stare male. Passarono altri giorni e visto che il professore non aveva ancora riportato i compiti, Thomas chiese «Prof, quando ci riporta i compiti? Non è che ci sta studiando come delle scimmiette da laboratorio, visto che lei è psicologo e ancora non ce li ha riportati?». L'insegnante, molto divertito, rise e alla domanda del ragazzo rispose «Sì, Thomas, vi sto utilizzando come cavie per un esperimento sociale. Sì, sì, mi servono proprio delle scimmiette scalmanate come voi per la mia ricerca». Tutti se la risero e chiusero il discorso. Il professor Rossi era molto amato perché aveva il dualismo, severità e gioco. Infatti il suo amore per l'insegnamento, quando affrontava dei discorsi un po' più difficili, lo portava ad essere molto rigido e intransigente per quanto riguardava anche solo i piccoli mormori che potevano capitare durante la lezione, anche se cercava di trovare sempre dei metodi divertenti per non fare annoiare, mentre in altri momenti era una persona molto allegra, divertente e giocosa e abbastanza flessibile. Durante le sue lezioni i ragazzi apprendevano divertendosi anche gli argomenti più seri e difficili da affrontare. E i suoi studenti lo adoravano proprio per questo. Agli altri insegnanti faceva un po' di invidia perché durante le sue lezioni i ragazzi stavano zitti e attenti, lo ascoltavano, lui sapeva coinvolgerli, cose che invece loro non erano in grado di ottenere. Lui li sapeva prendere, forse perché era molto giovane e conosceva bene il loro linguaggio. Sapeva come raddrizzarli quando ce n'era bisogno e sapeva gratificarli al momento giusto. La maggior parte lo vedeva come un fratello maggiore, altri come un cugino e alcuni addirittura come un padre. Persino Clarissa alcune volte interagiva con lui durante le discussioni e le chiacchierate in classe, cosa che non faceva mai con gli altri insegnanti. Il professor Rossi, dopo un percorso molto difficile, si era diplomato e aveva preso la doppia laurea prestissimo, con il massimo dei voti. Grazie a quello aveva subito trovato lavoro prima nella scuola pubblica e poi in quella privata. Mentre lavorava come insegnante aveva terminato gli studi, per poi iscriversi nuovamente all'università per prendere la specialistica di due anni di psicologia. Oltre ad aver superato al primo tentativo l'esame di stato che gli permetteva di iscriversi all'albo, aveva potuto continuare gli studi che lo avrebbero portato a diventare psicoterapeuta. Il suo sogno era insegnare a aiutare i ragazzi con difficoltà o con dei disagi, proprio come li aveva avuti lui da adolescente. Pur seguendo diversi corsi ed insegnando in molte classi, riusciva a trovare del tempo da dedicare ai suoi hobby e alla sua Sabrina. Nel corso delle sere, fra lo studio e le preparazioni delle lezioni, corresse anche tutti i compiti, lasciando per ultimo quello di Clarissa, così come si era prefissato di fare. Era in assoluto il più lungo e sicuramente il più impegnativo. Durante la correzione del compito di quest'ultima, il professore si rese conto della sofferenza della ragazza e realizzò che il suo istinto aveva indovinato. Ebbe infatti conferma dei dubbi che gli erano venuti su di lei, appena conosciuta. Capì che Clarissa non era semplicemente timida e riservata, ma purtroppo era anche vittima di bullismo, oltre che dell'indifferenza sociale e familiare. In pratica era una ragazza sola, come lo era stato in un certo senso lui in passato. Ebbe l'impressione, dalle parole che lei aveva scritto, che forse non viveva una situazione familiare facile e che gli stava chiedendo a suo modo aiuto. Decise quindi di indagare tramite una conoscente che proveniva dallo stesso paese d'origine. Una ragazza che aveva conosciuto all'università e con la quale spesso si vedeva, perché avevano un'amica in comune, Sabrina. Oltre che essere sua collega di lavoro, da poco tempo era entrata di ruolo per sostituire un'altra insegnante andata in maternità. Si trattava della professoressa di matematica, andata qualche tempo prima a cena a casa di Clarissa. Inoltre anche lui, viste le poche risposte ricevute dal colloquio con la sua collega, decise di prendere iniziativa, conducendo personalmente delle ricerche. Nonostante la difficoltà iniziale, egli riuscì a reperire delle utili informazioni andando occasionalmente nel paese in cui aveva vissuto la ragazza e, riuscendo a riscuotere la simpatia e la fiducia degli abitanti, risalì alle sue origini e venne a sapere che Clarissa fin dalle sue prime esperienze scolastiche non aveva avuto vita facile. Già dall'asilo era isolata e vessata dagli altri bambini per la sua bontà, ingenuità e timidezza. Ed i suoi familiari erano sempre stati poco presenti, eccetto i nonni materni. In più scoprì che i suoi genitori l'avevano allontanata bruscamente dalle uniche persone con cui parlava e che poi i nonni erano morti. Dedusse che era da sempre vittima dell'indifferenza e sospettava che i genitori fossero colpevoli di tutto ciò. Il loro disinteresse aveva fatto sì che Clarissa fosse incapace di avere rapporti normali con le altre persone. Un giorno, mentre stava ancora indagando, vide la ragazza con un'impronta nera sul viso e con un lembo del labbro sinistro rotto, oltre che una fasciatura al polso destro. Lei cercò di camuffare il tutto, ma con un inutile sforzo. L'insegnante, che osservava tutti i suoi studenti uno ad uno, se ne accorse immediatamente, ma, per non farla sentire a disagio, attese la fine della lezione per poterle parlare un momento in privato. Le chiese che cosa avesse fatto. Clarissa rispose che non era nulla di grave, che era caduta, ma lui, che non si fidava di quella risposta, decise di andare più a fondo, provando a riproporle la domanda in modo diverso nella speranza di ricevere una risposta più sincera. Lei rispose nello stesso modo. Clarissa era troppo diffidente per dare delle risposte, e così sorvolava o evitava di rispondere. Il professor Rossi, preoccupato della scoperta e visto i segni che Clarissa portava sul corpo, decise di chiamare a colloquio i genitori, ma loro, per tutta risposta, dissero di non avere tempo e di essere impegnati con il loro lavoro. Il professore, indignato, decise di riprovarci dopo qualche giorno. Il secondo tentativo andò a buon fine. Questa volta approvarono gli orari proposti dall'insegnante e non fecero in apparenza grandi resistenze. Il giorno successivo i genitori di Clarissa si presentarono a scuola infastiditi e con arroganza e, non appena si resero conto della giovane età di quel professore, si convinsero che non fosse in grado di insegnare. Un ragazzo poco più che trentenne non poteva essere l'insegnante della loro figlia. Scocciati, gli riferirono di aver poco tempo e di doversi sbrigare. Il professore, vedendo la loro reazione e il loro modo di fare, si infastidì, ma facendo un sospiro profondo riuscì a mantenere la calma e iniziò il discorso facendo leggere loro il racconto di Clarissa, per poi cominciare a fare delle domande mirate. «Voi con vostra figlia comunicate? Avete un rapporto confidenziale?» Lì per lì, guardandosi stupiti e seccati dalla domanda, i genitori risposero «Che domande fa? Certo che sì!» Ma il professore, convinto del contrario, chiese «Siete a conoscenza del fatto che vostra figlia è spesso vessata e presa di mira dai bulli della scuola? Lo sapete che vostra figlia ogni tanto viene con delle fasciature o dei segni che cerca di camuffare come può?» A quel punto, stupefatti, rimasero in silenzio e si guardarono fra loro con un'espressione dubbiosa e pensierosa. In quel periodo lavoravano veramente tanto, la figlia la vedevano poco e nei pochi momenti in cui erano liberi le prestavano poche attenzioni e lei, maga nei camuffamenti, coglieva l'occasione per coprire i segni con il fondotinta di sua madre, in modo tale che i genitori non si accorgessero di nulla. La colpa andava attribuita principalmente al padre di Clarissa. L'uomo era abbastanza superficiale, la classica persona che non può fare a meno di verificare di persona prima di credere a qualsiasi cosa. Pensando che il professore si stesse inventando tutto, infastidito da ciò che gli aveva riferito, gli disse che non aveva diritto di insinuare certe cose senza nemmeno conoscere le persone e che non doveva dire falsità su sua figlia. A lui non risultava che la ragazza andasse a scuola né con fasciature né con segni camuffati. In realtà reagì in quel modo perché si sentì attaccato. Si rese conto che forse aveva ragione l'insegnante ma non voleva ammetterlo. Allora il professore che a tradimento, con una scusa banale, aveva fatto una foto alla ragazza, pur sapendo che poteva rischiare una denuncia dai suoi familiari, prese il telefono e fece vedere l'immagine alla coppia. Alla vista di quella foto, oltre ad aver sentito quelle parole che li avevano colpiti nel cuore e nell'anima, presero coscienza del fatto che forse quell'insegnante entrato di ruolo da soli due mesi, conosceva Clarissa meglio di loro. Dopo lo shock iniziale ripresero la discussione, ma da quel momento si sentirono afflitti, messi di fronte a una realtà che non si sarebbero mai immaginati. Solo in quel momento si resero conto che forse avevano trascurato un po' troppo la loro figlia e che lei, poverina, cercava di attirare da una vita la loro attenzione con piccoli gesti che, con il passare degli anni, aveva smesso di fare. Erano stati troppo presi dal lavoro, dalla crisi economica, dalle litigate di coppia e dai problemi di salute del signor Chianti. Infatti in quegli anni l'uomo aveva avuto dei gravi problemi di cuore, oltre che vari interventi, tra cui uno di urgenza che gli aveva salvato la vita. Avevano fatto molti errori e non conoscevano la figlia così bene come credevano. Forse il suo disagio era causato dal poco dialogo in famiglia. Negli ultimi anni parlavano sempre di meno con lei. I genitori chiesero al professore di rileggere il testo e leggendolo con più attenzione notarono una frase che li sconvolse. I tagli che mi affliggo mi danno le attenzioni che non ho da tempo e mi fanno sentire meglio con me stessa. La signora Maria fece notare la frase a suo marito, che all'inizio, preso dalla fretta e dalla frenesia del momento, oltre che dal nervosismo, non l'aveva letta. Si guardarono fra loro per poi alzarsi per andare via pensierosi e in silenzio, ma l'uomo li fermò alla porta e prima di congedarli, l'insegnante disse ai signori Chianti, se volete far andare Clarissa delle sedute con uno psicologo vi posso mettere in contatto con un mio amico oppure, se preferite, posso rendermi disponibile io stesso. Il padre rispose in modo molto scocciato, a mia figlia ci penso io, non ha bisogno di consulenze psicologiche, arrivederci. Uscirono da scuola e salirono in macchina. La signora Maria, dopo poco essersi messa in viaggio, disse a suo marito, non credi che forse dovremmo seguire il consiglio dell'insegnante di Clarissa? Lui si girò di scatto e con tono molto aggressivo disse, non abbiamo nemmeno i soldi per fare la spesa, come lo paghiamo, no psicologo? La donna rimase gelata dalle parole e dal tono usato, non parlò più per tutto il tragitto che li riportava al lavoro. Clarissa, che non sapeva nulla del colloquio con l'insegnante, finite le ore scolastiche, quel giorno terminate prima per via di uno sciopero, si incamminò verso la stazione degli autobus, ma il suo istinto le disse di fare la strada parallela, imboccando l'incrocio proprio di fianco a quella che stava percorrendo. Dopo un po' si accorse che qualcuno la stava seguendo. Un po' impaurita ma incuriosita, si fermò poco distante dal retro di una macchina e facendo finta di inviare un sms si mise a guardare da lontano tramite lo specchietto. Lì ebbe la conferma, un gruppo di tre ragazzi la stavano pedinando, erano i bulli che stavano sghignazzando fra loro. In quel momento la poveretta si sentì in tremendo disagio, ma ormai era lì, non poteva andare via, uno spostamento in più e avrebbero capito che era impaurita. Aveva paura di essere aggredita e non sapeva che da lì a poco la sua intuizione si sarebbe avverata, con delle conseguenze poco gradevoli. All'inizio i bulli la volevano solo provocare, ma una volta raggiunta Riccardo cambiò idea senza dire nulla a Michael. Effettivamente per prima cosa iniziò a prenderla in giro. Da dove arriva il tuo telefono? Dalla preistoria? Appoggiato da Thomas e Michael che se la ridevano e continuavano a sghignazzare. Poi Riccardo decise di rubarle con prepotenza quel telefono per loro tanto retrogrado. Quello che lei non sapeva era che il ragazzo più prepotente, Michael, il capo di cui lei si era infatuata, proprio quel giorno aveva lasciato decidere a Riccardo a chi dare noia e cosa fargli. Clarissa cercò in tutti i modi di riprendersi il cellulare. Nel tentativo di afferrarlo spinse Michael. A quel punto Thomas e Riccardo iniziarono da prima a insultarla, poi il secondo, senza rendersene conto, le afferrò proprio il braccio dove aveva la fasciatura. Strattonandola e spingendola a terra, dandole della poco di buono e lanciandola in strada il telefono che si ruppe in mille pezzi. I ragazzi poi minacciandola le dissero che non sarebbe finita lì. Lei a quel punto si alzò in lacrime e con lo sguardo fisso a terra riprese a camminare verso la stazione degli autobus. Una volta salita si mise al suo solito posto, cioè nel punto più nascosto. Naturalmente i ragazzi la guardavano di continuo assieme alle loro fidanzate e sghignazzandola facevano sentire ancora più a disagio. Per quanto Michael ridesse e la prendesse in giro assieme agli altri, stava anche riflettendo sulla fasciatura vista poco prima, durante l'aggressione. Iniziò a chiedersi perché ne portasse una. Lui era sempre molto informato e non gli risultava che la ragazza si fosse fatta male a scuola o fuori da scuola. Così una volta scesi, Michael, a gran sorpresa di tutti, la chiamò e la fece fermare un momento dicendole che le doveva chiedere una cosa. I ragazzi e le ragazze, un po' stupiti oltre che infastiditi della situazione, gli chiesero se lo dovevano aspettare, ma lui rispose di no. Nel frattempo Clarissa, con passo veloce, stava andando verso la strada per prendere la coincidenza dell'altro autobus che l'avrebbe riportata a casa, ma Michael la fermò e le disse con tono arrogante e imperativo, Clarissa fammi vedere il polso. Lei un po' intimorita lo guardò, prese la manica e si coprì meglio la fasciatura. Poi gli rispose, perché? Lui voleva fare il duro, ma come è capitato già in molte altre occasioni non voleva far notare che in realtà era molto sensibile e si comportava in quel modo solo per senso di inferiorità e per paura di essere a sua volta bullizzato. Così le rispose in modo quasi tranquillo e rassicurante, guarda che non ti faccio nulla, volevo solo vedere il tuo polso. Ho notato che hai una fasciatura, perché? Che cosa ti sei fatta o cosa ti hanno fatto? Sono stati ragazzi l'altro giorno quando io non c'ero. Lei era immobile, in imbarazzo e riuscì solo a dire, no, non ho fatto nulla, scusami, perdo l'autobus, perdonami, devo scappare, e prese di corsa la strada per arrivare alla coincidenza dell'autobus in arrivo. Se lo avesse perso avrebbe dovuto percorrere molti chilometri a piedi, con conseguente rimprovero da parte dei genitori e non ne aveva proprio voglia, visto la giornata pesante che aveva dovuto sopportare. In quel breve frangente di tempo, mentre la guardava allontanarsi, Michael le disse «Se non mi rispondi ora sarà peggio per te la prossima volta!» Ma lei, lì per lì, non diede importanza a quelle parole. Una volta arrivata a casa, corse nella sua stanza e fra una lacrima e l'altra scrisse nel suo diario l'accaduto. Michael, mentre andava verso casa, ripensava alla reazione di Clarissa e rimase frastornato. Forse si rese conto, mentre la vedeva prendere l'autobus, che la ragazza aveva veramente molta paura di lui. Da una parte la cosa lo esaltava perché voleva dire che la sua maschera era ben fatta, ma, dall'altra, più ci pensava e più gli venivano dei dubbi circa il suo modo di comportarsi nei suoi confronti. Dopotutto, lui a lei doveva molto. Se non fosse stato per Clarissa, sarebbe stato bocciato l'anno precedente, durante le prove del trimestre, quando si trovò in grandissima difficoltà. C'erano infatti degli argomenti che gli insegnanti non avevano spiegato, che avrebbero dovuto studiare a casa e che naturalmente lui non aveva fatto. In quell'occasione, se non fosse stato per lei che gli passò le risposte, lui le avrebbe lasciate in bianco con conseguente bocciatura. Clarissa gli piaceva molto e, anche se era fidanzato con Valentina, spesso i suoi pensieri più profondi erano rivolti a quella che lui chiamava sempre davanti agli altri la sfigata o il brutto anatroccolo. Clarissa aveva degli occhi molto grandi, uno sguardo timido e seducente allo stesso tempo. Le poche volte che qualcuno lo incrociava tendeva a rimanerne colpito. Ed era forse questo uno dei motivi per cui, negli anni, le fidanzate erano più cattive dei bulli stessi, in particolare Valentina. Lei e le ragazze cercavano sempre di metterla in cattiva luce, oltre che schernirla davanti a tutti. Per la dolce ragazzina andare a scuola e vederle era sempre più un incubo, ma non poteva fare nulla a parte attendere con pazienza l'ultimo anno e scegliere un indirizzo di studi possibilmente differente da loro, per non incontrarle più. Clarissa, quando era in casa, se ne stava rinchiusa nella sua stanza la maggior parte del tempo e nel suo mondo passava ore e ore a scrivere del suo diario, sogni, desideri e speranze di cambiare vita e non vedere più i bulli e le loro fidanzate che la perseguitavano. Però il più delle volte gli argomenti trattati erano pieni di dolore e disagio. Questo la faceva stare meglio perché, quando aveva delle giornate in cui non riusciva a sfogarsi solo con la scrittura ed il disagio che provava era troppo acuto, per poter tenere controllato questo suo bisogno d'amore si autolesionava con lamette o oggetti contundenti, per darsi così delle attenzioni che non riceveva da chi gli era intorno. Capitava che fosse così concentrata nel farsi del male oppure nella scrittura da estragnarsi totalmente dalla realtà. Infatti spesso non sentiva nemmeno le quotidiane discussioni o chiacchiere dei suoi familiari, come accadde quel giorno. I genitori rientrarono dal lavoro, la chiamarono a tavola ma, non ricevendo risposta, pensarono che ancora non fossero incasata. Così iniziarono a discutere, ignari del fatto che la figlia, uscita prima da scuola, li stava ascoltando mentre si stava facendo del male. Sentirono un rumore provenire dal corridoio e solo in quel momento si resero conto che non erano soli. Troppo tardi realizzarono che Clarissa forse era nella sua stanza e che li aveva sentiti. Perciò smisero di discutere per andare a verificare, rendendosi conto troppo tardi che era rientrata in casa prima di loro. Ebbero la conferma che li aveva sentiti arrivare a casa e discutere. La richiamarono per pranzo, vista la mancata risposta, ma c'era tensione. L'aria si poteva tagliare con un coltello, per quanto era pesante. Lei, ormai abituata a questa situazione, non chiese nulla, anche perché qualcosa aveva sentito. La sua reazione alla loro discussione consistette nel rifiutare un po' il cibo. Mangiò veramente poco, dicendo di non avere appetito. Loro, naturalmente, da genitori attenti, non si resero conto che quella era una delle tante richieste di aiuto che la loro figlia mandava loro e che fecero finta di nulla. A un certo punto sentirono un tonfo. Suo padre guardò a terra. A un certo punto sentirono un tonfo. Suo padre guardò a terra. Si accorse che era caduto il telefono e che era un po' rovinato e chiese a Clarissa «Cos'è successo al telefono?» «Nulla, papà. Mi è solo scivolato dalla tasca. Scusami». Lui lo raccolse e, rendendolo a sua figlia, non fece altre domande. Poi ripensandoci bene, consegnandolo ed osservandolo meglio, si accorse che era un po' rovinato in un punto e che quel danno non poteva essere stato provocato da una caduta come quella. Il padre allora ripropose la domanda con un tono investigativo e chiese «Clarissa, cos'è accaduto al telefono? Ti trovi bene? Riesci ad utilizzarlo con facilità?» «Non è accaduto nulla, papà. Te l'ho detto. Mi è solo scivolato dalla tasca e sì, mi ci trovo bene». A quel punto intervenne sua madre che le chiese «Tesoro, come ti trovi a scuola?» «Bene, come sempre. Ormai mi sono abituata». Cambiando discorso, Clarissa disse loro che doveva andare a studiare perché il giorno dopo aveva interrogazioni e compiti in classe. Il periodo non era facile, non aveva abbastanza concentrazione ed era molto stanca. Per loro era tutto normale perché sapevano che lei era molto diligente e lì già allo studio e che ci metteva sempre molto impegno. Clarissa infatti si pagava la scuola con le borse di studio e con i premi che riusciva a prendere con i concorsi scolastici, dove in palio c'era del denaro, altrimenti non si sarebbero potuti permettere le rate. Avevano una situazione economica molto difficile, quella scuola era carissima. Presi dai troppi problemi che avevano, non notarono né la fasciatura che appena sporgeva da sotto la manica stretta della maglietta, né la sofferenza che la figlia aveva negli occhi e credendo alle sue parole non le chiesero molto. Appena i signori chianti rimasero soli a tavola, ripresero il discorso iniziato prima di pranzo. Inizialmente la conversazione si svolse in modo tranquillo, per poi alzare sempre di più il tono di voce finché non sfociarono in una feroce litigata. Clarissa, mentre studiava, ascoltava tutto. Sopportò la situazione finché, stanca di sentire litigare, uscì di scatto dalla sua stanza e passando loro davanti, a passo veloce, uscì di casa chiudendo la porta dietro di sé, sbattendola. I signori chianti si guardarono e smisero di parlarne per seguire la figlia. Clarissa era troppo arrabbiata e stanca, così se ne andò piangendo verso il parco in un punto poco visibile dalla strada, dove rimase fino all'ora di cena. Quando fece buio decise di rincasare. Davanti casa sua c'era una volante dei carabinieri, entrò in casa e vide i genitori disperati che spiegavano l'accaduto ai carabinieri. Sua madre si teneva la testa fra le mani e piangeva, mentre suo padre faceva vedere le foto di Clarissa e cercava di mantenere la calma. Clarissa entrò nella stanza, guardandoli senza parlare. A quel punto suo padre le chiese «Clarissa, dove sei stata? Ci hai fatto preoccupare!» Clarissa gli rispose «Ero stanca di sentirvi litigare. Mi avete fatto venire il mal di testa. Avevo bisogno di stare in un posto silenzioso. Scusatemi, vado nella mia stanza.» Abbassò lo sguardo e girando le spalle se ne andò. L'uomo non rispose più e accompagnò i carabinieri alla porta, congedandosi e scusandosi per avergli fatto perdere del tempo prezioso. Dopo qualche minuto andarono da Clarissa per chiederle scusa, ma la trovarono già nel letto che riposava. Il giorno dopo Clarissa, senza nemmeno salutare i genitori, andò a scuola. La giornata fu lunga e pesante da affrontare. Lei non vedeva allora che finissero tutte le lezioni per andare a casa. Finalmente la campanella che indicava la fine delle lezioni suonò. Così, all'uscita della scuola, Clarissa decise di cambiare strada. Peccato però che i bulli la stavano facendo seguire dalle fidanzate, le quali fra un commento, un audio, una risata, li tenevano aggiornati via WhatsApp. Una volta girato l'angolo, i bulli erano lì che la stavano aspettando. Con disagio, le ritornarono in mente le minacce subite il giorno prima dal gruppo e le parole che Michael le aveva detto alla coincidenza dell'autobus. Clarissa si sentiva il cuore esplodere dentro il petto. Batteva talmente forte che era convinta che lo sentissero pure loro. Questa volta erano addirittura in cinque contro una. In quel momento capì che era in trappola. Si girò, ma non vide nessuna via d'uscita da quella situazione. Pensò che solo un miracolo avrebbe potuto evitarle il peggio e proprio in quel momento arrivò il suo angelo custode. Il professore d'italiano, che di solito parcheggiava nella via parallela, quella mattina cambiò posto perché non aveva trovato parcheggio. Quella fu la salvezza di Clarissa. Infatti lei lo salutò immediatamente e lui, ricambiando il saluto, chiese loro cosa facessero tutti lì, poiché la stazione dell'autobus era dalla parte opposta. I ragazzi, un po' imbarazzati, andarono via senza dare una risposta. Mentre stavano andando via, Michael la osservava per cercare di capire se Clarissa stesse per iniziare a parlare di loro con l'insegnante e capire l'argomento trattato. Rimasero solo loro due e in quel momento il professore le chiese in modo diretto «Clarissa, sei una loro vittima». «No». Ma lui, che conosceva fin troppo bene quelle espressioni perché vissute in prima persona, in modo carino le disse «Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare ricordati che io ci sono». «Buona giornata, a domani». Il giorno seguente era San Valentino. Lei, non ricordandosi della ricorrenza, acquista un regalo per l'insegnante con l'intenzione di portarglielo il giorno dopo. E così fece. L'indomani Clarissa, dopo la lezione, chiese al professore di potergli parlare un momento per ringraziarlo dell'aiuto del giorno prima e gli diede un piccolo pacchetto. Lui si rese conto, solo dopo averlo preso in mano, che si trattava di un regalo. L'insegnante, un po' lusingato dal gesto ma anche imbarazzato, le disse che non ce n'era bisogno, ma Clarissa insistette, dicendogli «Se ieri lei non fosse intervenuto, non penso che oggi sarei potuta essere così tranquilla». Un po' perplesso dalle sue parole le chiese «Ma perché dici questo?» «Perché non è la prima volta che mi prendono di mira, tutti sanno, ma nessuno mai mi ha difesa. Solo lei ha capito la mia situazione. Poi è l'unico che ha chiesto di me ai miei genitori». A quel punto l'insegnante le chiese «Ne avete parlato in famiglia?» «No, ho sentito che parlavano, più che altro discutevano fra loro e fra le varie cose di cui hanno dialogato. C'è stato anche il mio tema. Così ho intuito che lei avesse parlato con loro e la volevo solo ringraziare per questo. Buona giornata». In modo frettoloso prese lo zaino e corse fuori dalla scuola. All'uscita c'era Michael e il gruppo di amici bulli che la seguirono e, fra una risata e l'altra, le chiesero «Cosa fai? Ci provi con il prof? È vero che è quasi nostro coetaneo per come si comporta, ma non ti sembra troppo grande?» Lei, tenendo lo sguardo abbassato, non rispose. Non soddisfatti, prima Thomas e poi Riccardo riproposero la domanda afferrandole nuovamente il polso fasciato e la strattonarono spingendola verso il muro. A quel punto Clarissa rispose in modo deciso, quasi urlando. «No, lasciatemi in pace!» I ragazzi si guardarono fra loro un po' stupiti per la sua reazione e, sghignazzandola, lasciarono andare verso l'autobus. Michael guardò la scena in silenzio, perplesso, pensando che forse i suoi amici avevano iniziato ad andarci un po' troppo sul pesante. Ma non impedì il giorno successivo di diffamarla. Si sparse infatti la voce che Clarissa era interessata all'insegnante e che gli aveva fatto un regalo per San Valentino. Il preside della scuola, allarmato, decise di chiamare l'insegnante in ufficio per avere chiarimenti sulla voce a lui pervenuta. La sua preoccupazione era evitare scandali, soprattutto di pedofilia. Qualche anno prima aveva dovuto licenziare un bravissimo insegnante, all'apparenza, perché in realtà era un pedofilo e aveva infastidito alcuni studenti dell'istituto. Dopo quel fatto, la scuola perse il prestigio ottenuto con tanta fatica, le iscrizioni e il buon nome che si era fatta in tutti quegli anni. Se non fosse stato per i genitori di alcuni studenti, fra cui quelli di Thomas, Michael e Riccardo, avrebbe chiuso sicuramente. Naturalmente il professore lì per lì cadde dalle nuvole, poi ripensando al giorno prima, spiegò che la ragazzina gli aveva regalato dei cioccolatini, perché all'uscita della scuola l'aveva difesa da dei ragazzi che la stavano infastidendo, e riferì al preside che lui non era un pedofilo e che non doveva preoccuparsi, non avrebbe creato né scandali né problemi. Chiarito il tutto, andò in classe e fece la sua lezione, fingendo che non fosse accaduto nulla, ma ripensando a ciò che gli aveva raccontato il preside in occasione della giornata degli innamorati. Fece fare ai ragazzi un tema sul giorno di San Valentino. Gli studenti, fra imbarazzo e stupore, dissero «Professore, scusi, ma chi non è fidanzato può avere un altro argomento?». L'insegnante, sospirando, disse «No, ragazzi, buon lavoro». Michael sperava in una risposta positiva a quella domanda. Aveva litigato qualche giorno prima con Valentina e si stavano per lasciare, quindi non gli andava proprio di parlare di quell'argomento, ma, vista la risposta negativa dell'insegnante, fu costretto a farlo, anche se con molto disagio. A fine lezione l'insegnante fermò il gruppetto capitanato da Michael e disse loro di non infastidire Clarissa. Era già da un po' che li teneva sott'occhio e non gli piaceva il modo in cui la trattavano. Michael si fece una risata e gli rispose «È vero che lei, prof, è molto giovane, ma non le sembra che ci sia troppa differenza di età fra lei e Clarissa. In più le consiglio di farsi i fatti suoi, perché a scuola comandiamo noi, gli insegnanti sono solo numeri e nomi messi lì dai nostri genitori». Infastidito da quella risposta e sicuro di chi avesse sparso la voce per diffamarlo, l'insegnante decise di lasciare stare temporaneamente e di andare a casa, visto che in quel momento stava suonando la campanella. Presero ognuno la propria strada. Il professor Rossi, arrivato a casa, trovò la sua compagna su tutte le furie. Non fece nemmeno in tempo a mettere piede in casa e togliere la giacca, che lei gli si avvicinò e, gridandogli contro, gli diede uno schiaffo in pieno viso. Lui, che non sapeva il perché di quella reazione, con tono stupito e preoccupato, chiese «Sabrina, sei forse impazzita? Perché mi hai colpito? Cosa ti ho fatto?» E lei, su tutte le furie, «Non prendermi in giro. Sai perfettamente di cosa sto parlando. Esci subito da casa. Non ti voglio qui». Lui aspettò in silenzio sul divano che si calmasse un po'. Poi le chiese «Possiamo parlare un momento in modo civile? Cosa ti ho fatto? Perché mi hai aggredito appena entrato nella soglia di casa?» Allora lei, infastidita, rispose spiegandogli che erano andati nel suo salone di parrucchiera e le avevano detto che lui era un pedofilo. Lui lì per lì rimase sbigottito e le disse «Sabrina, è una vita che ci conosciamo. Ti sembro il tipo in grado di fare certe cose? Ti sembra che abbia necessità o bisogno di farle? Ti sembro malato?» «Effettivamente è una vita che ci conosciamo». Mentre sistemava la sua giacca, Sabrina vide il pacco di cioccolatini di Clarissa con il biglietto attaccato. A quel punto si irritò di nuovo e gli chiese di vedere cellulare e computer. Lui, stupito ma in modo molto sereno, le consegnò tutto dicendole «Quando hai finito di controllare, avvisami, così parliamo con calma». E poi le chiese «Tu quando hai saputo questa cosa?» E lei con tono deluso e arrabbiato «Questa mattina delle signore molto pettegole si sono messi a parlare e a insinuare che pure io sono tua complice». Lui la guardò e dopo qualche istante in silenzio le chiese «Perché? Cos'hanno detto di preciso?» «Hanno detto che tu accetti i regali dalle bambine con cui ci provi e te le porti a letto e che io lo so. In più con il mio lavoro ti aiuto a trovare le vittime». Lui a quel punto mantenendo sempre la calma le disse «Ma non ti rendi conto di quante bagianate ti abbiano detto? E poi se avessi voluto fare qualche cosa del genere non ti avrei nemmeno fatto trovare il regalo di Clarissa». «Ah, si chiama Clarissa la bambina. Quest'informazione mi mancava». A quel punto lui decise di svuotare il sacco. Le raccontò che la mattina prima i bulli della scuola stavano dando fastidio a Clarissa che erano in cinque contro una. Lui aveva visto la scena mentre andava a prendere la moto ed era intervenuto per difenderla e lei per ringraziarlo del gesto gli aveva fatto un regalo. Non era accaduto nulla di più. Le disse pure che il giorno successivo avrebbe avuto una riunione a scuola, un consiglio di classe e voleva far uscire il discorso. Sabrina a quel punto si era calmata. Dopo aver ascoltato tutto ciò, si rese conto che forse lui era veramente innocente. Nei giorni successivi lei lo controllava senza farsi notare. L'aria era ancora tesa, ma lui cercava di farle capire che era innocente e la lasciava fare. Non voleva creare più tensioni di quante già ce ne fossero. Quindi continuava a comportarsi come sempre ed a fingere che non fosse accaduto nulla, nonostante fosse deciso più che mai a risolvere la questione. Il giorno dopo decise che voleva far uscire il discorso al consiglio di classe e, pensando al modo in cui farlo, attendeva con impazienza la riunione. Ma il preside mandò la comunicazione che il consiglio era stato rinviato di qualche giorno per un problema burocratico. Così il professore attese che si fissasse una data. Arrivato il fatidico giorno e finalmente il suo turno, affrontò il discorso di Clarissa e dei Bulli, ma nulla da fare. Tutti i suoi tentativi di parlare dell'argomento furono vani. Infatti nessuno voleva interessarsi di Clarissa Chianti per evitare problemi con i genitori di quei ragazzi. Purtroppo comandavano loro davvero, per il semplice fatto che erano i figli dei finanziatori della scuola. Quella giornata era già iniziata male, la moto si era rifiutata di partire e con suo grande dispiacere aveva deciso di prendere l'altro mezzo in suo possesso, la macchina. Sperò in una svolta in meglio, visto che, per via di quell'imprevisto, aveva rischiato già di fare tardi, ma quello era solo un assaggio di ciò che il destino gli aveva riservato. E così, dopo aver affrontato una mattinata e un pomeriggio a dir poco pesanti, stanco e deluso dagli esiti del consiglio di classe, ritornò verso casa. Presto, però, cambiò idea, visto che era ancora presto, e decise di sostare con la macchina al parco, vicino al chiosco che frequentava con Sabrina, per bere una birra. L'incontrò alcuni amici, videro che aveva un po' il viso scuro e gli chiesero che cosa avesse fatto. Nessuno era abituato a vederlo in quel modo. Lui inizialmente fu vago, poi, dopo varie insistenze, spiegò che era appena uscito dal consiglio di classe, dove sperava di risolvere un problema di bullismo verso una sua studentessa, ma che purtroppo non era andato a buon fine. Intervenne Stefano dicendo, lo sai che credo che tu insegni nella scuola, anzi, nella classe, di mio nipote Riccardo. L'amico lo informò circa il cognome e la sezione frequentata da Riccardo, ma, notando che l'insegnante rimaneva in silenzio, in modo un po' preoccupato chiese, per quale motivo ti sei zittito? Uno dei bulli è forse mio nipote. E il prof rispose, purtroppo sì, è uno dei più cattivi nei confronti della ragazza in questione. A sentire quelle parole Stefano un po' si dispiacque, poi gli disse, questa sera vado a cena da mia sorella, posso provare ad accennare il discorso se vuoi. Il mio cognato ha viziato molto il ragazzo. Pensa che quando mia sorella prova a intervenire nella sua educazione lui si infastidisce, ma se sa che il figlio fa il bullo lo mette in punizione a vita. Gli dà molto, ma pretende parecchio. Il professor Rossi rimase stupito sentendo quelle parole, poi, pensandoci bene, si rese conto che dei tre bulli Riccardo era quello con la media più alta ed era uno dei più bravi della classe insieme a Clarissa. Fra una chiacchiera e l'altra si fece tardi. Sabrina telefonò al suo compagno, gli chiese, «Ma dove sei? Ti sto aspettando per cenare!» Lui, imbarazzato, chiese immediatamente scusa e le disse che sarebbe arrivato da lì a pochi minuti. Salutò gli amici, prese la macchina e corse a casa. Nel frattempo Stefano, vista allora, decise di seguire le orme di Alex, dirigendosi pure lui verso il proprio mezzo per andare a cena, a casa della sorella. Dopo aver gustato l'antipasto e le varie pietanze preparate da Daniela, come promesso al suo amico, fra una chiacchiera e l'altra raccennò il discorso bullismo nella scuola. A un certo punto chiese a Riccardo, «Come va a scuola? Come ti trovi con gli insegnanti nuovi? Alla fine il prof d'italiano è sempre lo stesso o lo avete cambiato?» Riccardo, sorridendo, disse, «Va tutto bene, zio. Grazie mille. Alcuni prof sono cambiati, ma sono veramente simpatici e bravi, in particolare uno». Allora lo zio prese la palla al balzo e gli chiese, «Ah sì? E qual è il tuo preferito?» Riccardo, sempre sorridendo, rispose, «Un ragazzo che forse ha la tua età, sembra uno di noi e ci spiega le lezioni molto bene. Pensa che quando lo ascolto memorizzo tutto e mi ricordo le cose senza nemmeno ripassarle. È in gamba, sia come prof che come persona, di cognome far rossi». Allora Stefano accennò un sorriso e per non far capire a Riccardo che sapeva perfettamente che lui era uno dei bulli, che il discorso non era uscito per caso e che aveva parlato di lui con Alex, decise di mentire dicendogli «Chissà se è il mio conoscente, ma non lo credo possibile perché penso che lui insegni nella scuola pubblica. Senti una cosa, ma è vero che a scuola ci sono stati e ci sono ancora casi di bullismo?» Il ragazzino impallidì e fece in modo di cambiare discorso, dicendo che l'indomani avrebbe avuto un compito in classe proprio con il professor Rossi, insegnante sia di italiano che di storia, e doveva rileggersi alcune cose. Dopo qualche giorno di tranquillità, finita finalmente la bufera di San Valentino, un ex compagno di scuola del professore lo contattò tramite Facebook, chiedendogli se gli sarebbe andato di bere una birra insieme. Lui accettò volentieri e gli disse di organizzare quando voleva. Così una sera andarono in un pub vicino casa dell'insegnante e, fra un discorso e l'altro, il compagno gli chiese come stesse andando l'insegnamento nella scuola privata, e se preferisse quella o la scuola pubblica, ed Alex, fra una domanda e una birra, gli raccontò tranquillamente della situazione a scuola, non immaginando che il suo amico giornalista cercava uno scoop per fare successo. Quella era la sua occasione, creare uno scandalo e coronare finalmente il suo sogno di diventare famoso nel giornalismo. L'insegnante, ritornato a casa, raccontò per filo per segno a Sabrina tutti i discorsi fatti e come si erano svolti. Lei rimase sbigottita e silenziosa. Una cosa molto insolita, infatti lei di solito interagisce molto e dice sempre la sua anche mentre lui parla, interrompendolo spesso. Alex le chiese, perché non parli? C'è qualcosa che non va? Sabrina, pensierosa, gli rispose con delle domande. Sei sicuro che non fosse in cerca di uno scoop. Non trovi strano che ti abbia chiesto tutte quelle cose? Lui rimase in silenzio per un attimo e poi rispose, sai che mi fai venire dei dubbi. Oramai non poteva che attendere lo svolgersi degli eventi per avere la verifica del loro sospetto. Se lei aveva ragione, presto avrebbero letto della storia su tutti i giornali. Dopo qualche giorno ebbero la loro conferma. L'intervista finì ovunque, nei giornali locali e non, e il professor Alex Rossi si trovò a dover affrontare una situazione di imbarazzo con il preside e i colleghi, che gli provocò pure qualche problema con alcuni genitori, ma dopo tutto era felice dell'accaduto. Pensò che forse finalmente sarebbe cambiato qualcosa. La bufera durò qualche settimana. In quel breve periodo di tempo il signor Chianti si fece prestare dei soldi da delle persone poco raccomandabili per poter andare a cercare lavoro all'estero con tutta la sua famiglia. Infatti Clarissa era in viaggio con loro e, di conseguenza, non le era arrivata voce delle notizie che giravano sul conto della sua scuola e delle illazioni che coinvolgevano anche lei. A sorpresa, durante tutto questo trambusto ci fu una nuova iscrizione a scuola da parte di un ragazzo appena arrivato in Italia. Ai suoi genitori non interessava ciò che era stato detto sui giornali, perciò proposero al figlio di andare in quell'istituto che era il più vicino a casa. Per il ragazzo, il primo impatto con la nuova scuola non fu dei migliori, una realtà totalmente diversa da quella che si immaginava e da quella da cui proveniva, ma ormai era lì. Osservò bene tutti e pensò di essere finito in una scuola particolare, un po' bizzarra. Fu colpito in particolar modo da un gruppo di ragazzi che gli sembravano bravi e pericolosi allo stesso tempo e pensò che forse gli avrebbero creato dei problemi. Anche loro lo notarono subito e cercarono di avvicinarlo. Nel frattempo Clarissa, in quel periodo, non era presente nell'istituto perché suo padre aveva richiesto un permesso speciale al preside per poterla fare assentare, senza aver ripercussioni sulla media e sulla condotta della ragazza, permettendole di girare con i suoi genitori in Europa e in America. Attesero due giorni prima di fare rientrare Clarissa a scuola. Le chiesero di rimanere a casa per riprendersi dalla stanchezza del viaggio. Per i signori Chianti fu un po' una delusione. Ora erano più in difficoltà economica di prima e non erano riusciti a trovare un'occupazione come speravano. Trascorsi due giorni di riposo, Clarissa si diresse verso l'autobus, ritornando alla solita routine di ogni giorno. In questo breve lasso di tempo fra il rientro in Italia e il riposo della ragazza, Thomas era andato nella zona dove abitava Clarissa per fare delle commissioni e, passando per caso con la moto davanti casa sua, vide la macchina parcheggiata nel cortiletto e decise di parlarne con Michael e Riccardo. Il giorno successivo, Clarissa rientrò a scuola ed ebbe una brutta sorpresa. Venne subito attaccata dai bulli. Lei in quel momento non era a conoscenza del motivo per cui la stessero aggredendo, non sapeva nulla dell'accaduto, ma loro non le credevano. Thomas e Riccardo arrabbiatissimi se la presero con lei per aver parlato di ciò che loro le facevano a scuola. Ma a grande sorpresa il capo, Michael, disse di lasciarla stare, facendo notare loro che era effettivamente impossibile che lei sapesse di cosa la stessero accusando, perché in quelle settimane lei non era a scuola. Il ragazzo aveva le sue motivazioni se in quel momento stava difendendo Clarissa, ma non ne aveva voluto parlare con nessuno. Aveva un segreto di cui era a conoscenza solo lui, ed era collegato con Jason, il ragazzo arrivato durante l'assenza della ragazza. Infatti i loro destini già in passato si erano incrociati. Nel breve periodo di tempo in cui Clarissa non c'era, Jason iniziò l'inserimento nella sua scuola e piano piano cominciò ad integrarsi. Il ragazzo americano ci sapeva fare, era affascinante e tutte iniziarono a fargli filo. Era alto, atletico, carino e simpatico, con gli occhi azzurri come il cielo. Michael e i suoi amici avevano visto che tipo era ed ebbero un'ottima impressione di lui. In più sembrava bravo a scuola e ora che non c'era a disposizione Clarissa da sfruttare faceva loro comodo. Oltretutto avevano bisogno di uno come lui nella squadra di calcio della scuola, così gli proposero di entrare nel loro gruppo e lui accettò. Era molto felice, arrivato da poco già si era creato un gruppetto di amici con cui uscire, era riuscito nel suo obiettivo, cioè farsi notare da loro e si sentiva integrato. Perciò molto tranquillamente, anche se il suo istinto diceva di non fidarsi fino in fondo, continuava a frequentarli. Quando Clarissa tornò a scuola si rese conto che il suo istinto non aveva sbagliato. Capì che quei ragazzi erano dei bulli, che le davano fastidio e lei naturalmente subiva senza rispondere. Infatti Riccardo per infastidirla aveva iniziato a provocarla e a darle delle piccole spinte. Jason da lontano vide la scena, ma aspettava il momento più proficuo per poter dire ai ragazzi che conosceva Clarissa e che non dovevano comportarsi in quel modo nei suoi confronti, e poi voleva vedere se come reagiva e se doveva intervenire per difenderla. Mentre Clarissa camminava e sopportava quel martirio continuo, alzò lo sguardo ed ebbe un colpo al cuore, lì nella sua scuola, in particolare nella sua classe, c'era Jason, il ragazzo tanto dolce e protettivo che aveva conosciuto al di fuori dell'istituto e che l'aveva fatta sentire una principessa durante i pochissimi giorni trascorsi in America, prima del trasloco in Italia del ragazzo, riuscendo quasi a farle dimenticare Michael. Nel frattempo lui, alla vista di Clarissa in aula, fu travolto da mille ricordi e sensazioni positive. Jason però ora faceva parte di quel gruppo che la odiava tanto e senza motivo, e Clarissa si sentì morire, era incredula e sbigottita, non riusciva nemmeno a parlare per quanto c'era rimasta male. Lui, avvicinandosi, cercò subito di ristabilire quel rapporto iniziato qualche giorno prima della sua partenza, ma lei, intimorita della compagnia con cui usciva, cercava di evitarlo. Vista la sua reazione, Jason decise davanti a lei di mettere le cose in chiaro, pure con i ragazzi. Non gli interessava nessuna di quelle ragazze montate che frequentavano il suo gruppo, voleva solo stare con quella ragazza che loro avevano deciso di vessare. E così, facendo un occhiolino a Clarissa, parlò in modo diretto a Michael. «Io esco ancora con voi. Continuo a stare nella squadra di calcio, ma voi dovete lasciare in pace questa ragazza. Presto starà con me». Lei lo guardò stupita e, abbassando lo sguardo, si sedette al suo posto, ripensando a quell'occhiolino e alle parole sentite qualche minuto prima, che l'avevano colpita e lusingata, anche se non lo faceva notare. Nei giorni successivi, Jason cercò di fare di tutto per farle capire che era il ragazzo conosciuto in America, che non voleva farle del male, anzi, la voleva solo difendere da quei ragazzi, ora che aveva capito bene la sua situazione. Così, anche se con grande difficoltà, perché lei non si fidava più di lui. Iniziò a parlarle e a provarci di continuo. In quei giorni, nel tentativo di riconquistare il dialogo con lei, iniziò a notare alcuni segni che in America non li aveva mai visto. Clarissa, nel periodo fuori porta, era più rilassata. Non si autolesionava approfittando della stagione invernale e tenendo sempre le maniche lunghe. Camuffava bene i segni ormai quasi rimarginati del tutto ed in quell'occasione buttò via pure le fasciature. Così un pomeriggio, dopo la scuola, Jason chiese a Michael se li avesse notati pure lui. Michael disse di sì. Allora Jason provò ad approfondire il discorso, ma nemmeno Michael sapeva dargli una risposta. Gli raccontò che qualche giorno prima che partisse, Riccardo le aveva afferrato un polso fasciato e che, alla fermata dell'autobus, dove poi lei prendeva la coincidenza per andare a casa, le aveva provato a chiedere che cosa avesse fatto. Ma lei non gli diede una risposta e da lì non ebbe più occasione per chiederle notizie, poiché in apparenza era come sparita nel nulla. Infatti, dopo quell'episodio, Clarissa si era assentata qualche giorno da scuola, non facendosi più vedere da nessuno. Diceva di stare poco bene, per poi non andare più per niente. Oltretutto non la vedevano mai uscire di casa, non aveva né amiche né vita sociale. Michael, incuriosito dall'atteggiamento indagatore di Jason, gli chiese, perché hai chiesto proprio a me se ho notato la fasciatura? E il ragazzo sorridendo rispose, tu sei un duro, ma dal cuore grande. Vuoi fare il bullo, ma in fondo le vuoi bene. L'ho notato dalle espressioni che fai quando Thomas e Riccardo esagerano nell'infastidirla. Ogni tanto sembra che vorresti intervenire per difenderla, anche se poi non lo fai. Sei un ragazzo molto intelligente, che osserva molto. Per questo ho chiesto a te e non agli altri. Michael, imbarazzato, inizialmente rimase zitto. Poi, guardando l'orario, disse, scusami, ma sei in vena di complimenti o cerchi di addolcirmi per non dare fastidio alla tua Clarissa? Comunque ora perdonami, devo andare a casa. Mia madre mi aspetta per cena. Si è fatto tardi. A domani. Michael se ne andò verso la sua moto e, mentre camminava, ripensava alle parole udite pochi istanti prima. Sorrise e scosse la testa. Si era reso conto che Jason aveva pienamente ragione, aveva colpito nel segno. Passarono alcuni giorni da quel dialogo e i due ragazzi si trovavano sempre più in sintonia. Finché un giorno, insieme agli altri ragazzi, Michael chiese a Jason come facesse a conoscere Clarissa, visto che lui era arrivato in Italia mentre lei era assente. In quel momento, lui era davanti a lei. Era riuscito finalmente, dopo tanti tentativi, ad avvicinarla. E mentre le stringeva la mano e la stava coccolando con piccole attenzioni davanti a tutti, accarezzandole il viso, suscitando così le invidi e le gelosie delle ragazze presenti, raccontò tutta la vicenda. Si erano conosciuti qualche settimana prima. Mentre lei era in viaggio con i suoi genitori, lui era distratto e per pochi centimetri non l'aveva investita con la moto. Da quel momento iniziarono a parlare, per poi scoprire che lui da lì a poco si sarebbe trasferito in Italia, in un paese vicino al suo, e che sarebbero stati vicini di casa, metaforicamente parlando. Lei gli disse che non sapeva se sarebbe rientrata in Italia perché i suoi genitori erano andati in America per trovare un lavoro. E nel caso la cosa fosse andata a buon fine, si sarebbero trasferiti a vivere lì in modo definitivo. Dopo qualche giorno lui si trasferì e fece l'inserimento a scuola. I ragazzi incuriositi dalla vicenda gli chiesero, ma perché ti sei trasferito a vivere qua? Non si sta meglio in America? Lui sorrise in modo timido disse, voi qui avete un modo diverso di vivere la vita. Su molte cose siete più allegri, solari, leggeri. Per questo aspetto vivo meglio qua. Per altri stavo meglio a Miami. Mi sono trasferito qua per il lavoro di mia mamma e poi lei ci teneva che io vivessi nei luoghi dove era stata felice da adolescente. In quel momento Riccardo lo guardò in modo strano per poi dirgli, oh ma che bravo bambino obbediente, per far felice la mammina fa il cagnolino e segue tutti gli ordini impartiti da lei. Jason di colpo cambiò espressione del viso. Si fece molto serio. Distinto lo avrebbe voluto picchiare. Invece, riflettendo qualche istante prima di rispondere, si sedette su una sedia abbracciando Clarissa e costringendola a sedersi sopra le sue gambe, gli rispose, a me il rispetto mia madre lo ha insegnato. Forse è una cosa che i tuoi genitori non ti hanno spiegato. In effetti basta vedere come tratti le altre persone. In quel momento ci fu silenzio, finché non intervenne Michael dicendo, ragazzi ora calmatevi, ok? Siamo a scuola, forse è il caso che ci diamo veramente tutti una moderata. Rimasero tutti stupiti da quell'affermazione. Lui che di solito era quello che faceva caos e creava problemi, in quel momento stava placando le acque. Tutti pensarono fra di loro, chissà che cosa gli passa per la testa, da quando si è lasciato con Valentina ed è arrivato Jason due mesi fa, è cambiato molto. Dopo questo silenzio, Matteo chiese a Jason, facendosi una bella risatina, hai raccontato il tuo primo giorno di scuola a Clarissa? Lui guardandolo gli rispose, no, non ne ho avuto ancora l'occasione. Oggi è il primo giorno, dopo tanti tentativi, che lei mi permette di avvicinarla, stringerla a me e parlarle. Allora lei lo guardò in modo veramente curioso e gli chiese, cosa è successo di così comico? Jason iniziò a raccontarle per filo e per segno tutto quanto, ma lo fece come se stesse scrivendo un tema, un diario di bordo, come se non stesse parlando di lui e così iniziò a narrare. Il primo giorno di Jason fu un po' imbarazzante perché da subito notò la somiglianza e l'omonimia del cognome con quello che gli dava l'impressione essere il bullo della scuola e nella sua testa pensò vedo guai all'orizzonte, ma per fortuna i ragazzi e le ragazze dell'istituto notarono solo piccoli e insignificanti dettagli, oltretutto molto superflui, cioè il modo di porsi, l'abbigliamento ai dettagli fisici, in particolare i suoi occhi e il fisico molto palestrato che faceva gola a molte studentesse. Che bisbigliavano commenti tra di loro vedendolo camminare, oltre che quel look così particolare che non passava inosservato. Infatti tutti da subito, a primo impatto, videro la somiglianza così evidente da sembrare sosia con Michael e poi, guardando la bacheca della scuola dove venivano messi sia gli annunci che la lista dei nuovi studenti iscritti, lessero che il cognome era lo stesso ed addirittura Veronica gli disse buongiorno Michael, ci beviamo un caffè prima di entrare in classe? Carino il tuo nuovo look. Lui imbarazzatissimo rispose, piacere Jason, se ti va prendo volentieri un caffè insieme a te, mi piace molto l'espresso italiano. Lei lo guardò meglio e si rese conto che non era il suo vicino di banco. In quel momento arrivò il diretto interessato con Thomas e Riccardo e lei disse, ciao Michael, ti avevo appena scambiato per questo ragazzo. Michael, guardandolo con sguardo da superiore e un po' divertito, disse, Veronica, secondo te io mi vesto e parlo così? Avendolo sentito esprimersi qualche istante prima. Naturalmente, attirati dalla battuta, tutti iniziarono a scrutarlo e a chiedergli se fossero parenti. Lui rispondeva dicendo di no. E quello fu il modo in cui Jason riuscì a farsi notare e ad entrare nel gruppo e questo fu il primo giorno di scuola di Jason. Lei lo guardò in modo divertito e sorridendo gli chiese, in modo timido e dolcissimo, Jason, hai mai pensato di scrivere un libro? Sei davvero bravo a narrare gli eventi. E lui, in maniera divertita e altrettanto impacciata, rispose, a dire il vero no, ho fin troppe cose da fare. E così chiusero il discorso. Usciti da scuola, Jason chiese a Clarissa qualche minuto per parlarle di una cosa che riteneva importante, che le voleva confidare e che le avrebbe fatto capire perché lui e Michael avevano quel rapporto. Così le raccontò anche di ciò che era accaduto con Michael durante la sua assenza, confidandole che a scuola non sapevano nulla di come si fossero svolti i fatti e che lei era l'unica persona a cui lo stava raccontando. Lei capì che poteva essere una cosa delicata e così iniziò ad ascoltarlo. Jason le spiegò che desiderava raccontarle il suo segreto per ritornare ad avere quel rapporto stupendo che avevano instaurato in America. E così, in pochi minuti, iniziò a parlare di tutta la storia. Le disse che, dopo qualche tempo dall'inserimento scolastico, Michael raccontò a sua madre del nuovo ragazzo, cioè lui, della somiglianza tale da sembrare un suo sosia e del cognome uguale, e iniziò a farle delle domande sul perché fossero venuti in Italia quando lui era molto piccolo. Così lei sbiancò e gli chiese, «Michael, ma perché tutte queste domande? Come mai solo ora ti interessi?» E un po' nervosa e agitata dai tanti quesiti posti dal figlio, la donna propose nuovamente la domanda, «Come mai mi fai tutte queste domande?» Lui, notando quell'atteggiamento insolito, mantenendo la calma, rispose, «Perché finora non avevo mai avuto la necessità di chiederti nulla, perché sto bene con tuo marito Roberto. Mi ha sempre trattato esattamente come tratta suo figlio Matteo, ma ora mi sto facendo delle domande sul mio passato, tutto qua». La madre di Michael, dopo un periodo di frequentazione, si era risposata con un ragazzo padre, che all'epoca aveva un figlio dell'età del suo bambino, e poiché tutti e quattro andavano d'accordo, crearono una famiglia felice. Dopo il matrimonio, si trasferirono in quel paese. Da quel giorno passarono più di dieci anni, e in tutto quel tempo aveva sempre sperato e desiderato che il ragazzo non chiedesse mai nulla. Susanna aveva paura di ricordare, perché per lei era molto doloroso, ma a quel punto non poteva evitare, e perciò gli raccontò come erano andate le cose. Suo padre, mentre era fidanzato e sposato con lei, frequentava anche un'altra ragazza. Nello stesso periodo concepirono un figlio. Le due donne si trovarono in travaglio lo stesso giorno e nella stessa stanza dopo il parto. Quando l'uomo entrò nella stanza per andare a conoscere suo figlio, ricevette la brutta sorpresa. Entrambe le donne erano lì in quella stanza, con i loro neonati, cioè i suoi figli. Così scoppiò lo scandalo, e Susanne, con grande sofferenza e rabbia, decise di lasciarlo e crescere suo figlio da sola, lontana da lui. Gli permise di frequentarlo per i primi anni, ma poi decise di allontanarsi e di fargli perdere le sue tracce. Michael, sentendo il racconto di sua madre, rimase sconvolto, ma pensandoci bene si rese conto di non ricordare nemmeno il suo vero padre, ed il giorno dopo ebbe una reazione bruttissima verso suo fratello Jason. Appena arrivato a scuola, Michael chiamò Jason e lo colpì senza nemmeno dargli spiegazioni. Jason, che era cintura nera di karate, si difese con facilità e gli chiese, Michael per quale motivo mi vuoi colpire? Cosa ti ho fatto? Sei forse impazzito? Non fare il finto tonto, tu sai tutto, dillo che ti sei trasferito qui per rovinare la mia famiglia. Lui cadendo dalle nuvole rispose, io non so veramente di che cosa tu stia parlando. Matteo, che era poco più avanti con i suoi amici, vista la reazione di suo fratello, corse per bloccare le polemiche, cercò di calmarlo e lo portò in classe, chiedendo scusa a Jason e dicendogli che se ne sarebbe occupato lui. Michael era troppo nervoso e svincolandosi ritornò all'attacco, finché Matteo con tutta la calma e la freddezza che poteva avere in quel momento gli disse, Michael lascialo stare, entra in classe con me per favore, ci parli dopo all'uscita della scuola. Michael aggredì pure suo fratello e nel divincolarsi urtò il professor Rossi che a quel punto lo costrinse ad entrare in classe e sedersi al suo posto. Il professore in questo modo riuscì a calmare gli animi, almeno temporaneamente, per tutta la sua lezione. Naturalmente la tregua fu breve e ogni tanto Michael provava ad insorgere mentre Matteo cercava di tenerlo buono fino all'uscita della scuola. Terminate le ore scolastiche, Michael ritornò all'attacco. Mentre i ragazzi erano a scuola, la mamma di Michael, Suzanne, si mise subito all'opera. Cercò di rintracciare il padre del ragazzo e per lui fu molto facile trovarlo. Conosceva bene il posto, sapeva che degli americani si erano trasferiti da pochi mesi e che avevano aperto un centro estetico in un condominio residenziale nei pressi della scuola, perciò fece il tentativo di andare a verificare chi fossero i proprietari. Il suo istinto non sbagliava quasi mai. Infatti, la mattina stessa, si diresse nell'edificio con l'intenzione di cercarlo e di parlarci, sperando di trovarlo nella struttura. L'uomo era lì di passaggio, perché doveva dire delle cose a sua moglie. Ma questa gli chiese di attenderla in sala d'attesa. Mentre terminava il lavoro, Cosini approfittò per leggere il giornale. Durante la sua permanenza lì c'era molto silenzio. Questo gli permise di rilassarsi un po' e di immergersi molto bene nella sua lettura, che si interruppe dopo pochi minuti per via del citofono. Così disse alla segretaria che avrebbe pensato lui a rispondere e che avrebbe dovuto portare cortesemente la tisana alla cliente che era con sua moglie Jennifer. Così si diresse verso la porta d'ingresso per rispondere. A sua grande sorpresa vide un viso conosciuto. Era Suzanne. Ella si ritenne fortunata a sentire la voce dell'uomo. Era riuscita a trovare al primo tentativo la persona che stava cercando, senza dover girare troppo, così risparmiando tempo prezioso. Suzanne riconobbe subito la voce e dopo essersi presentata gli chiese di potergli parlare qualche istante, dicendo che era lì per il bene dei loro figli. Dopo qualche istante di silenzio il portone fece un clock e la voce dell'uomo gli disse «Sali al primo piano per favore». Una volta salita, dopo averla salutata, la invitò ad accomodarsi nell'ufficio di sua moglie chiedendole di attendere qualche istante. Subito ritornò nella stanza con la sua consorte e una volta chiesto il perché della visita e aver discusso un po', si misero d'accordo su come raccontare ai ragazzi la verità, in tutti i suoi dettagli per quanto riguardava Michael, mentre a Jason, che non era a conoscenza dei fatti, avrebbero dovuto raccontare tutta la storia, cercando di non creare disagio, tensioni o, peggio ancora, dei traumi. Così, dopo essersi accordati su dove vedersi e come approcciarsi ai figli, Suzanne, una volta uscita dalla struttura, chiamò suo marito Roberto per chiedergli se fosse nel suo studio, così da potergli parlare qualche minuto. L'uomo le disse che aveva un appuntamento con un paziente in quel momento, ma, terminata la seduta, avrebbe potuto tranquillamente parlare perché una paziente aveva dovuto disdire l'appuntamento. Chiusa la conversazione con sua moglie, andò dalla segretaria, dicendogli che se avessero chiamato avrebbe dovuto dire che non aveva disponibilità di posti per quella mattinata perché doveva parlare con sua moglie. Detto questo, ritornò dal paziente in attesa. Suzanne, chiusa la conversazione, andò direttamente da suo marito e aspettò nella sala d'attesa con pazienza la fine della seduta. Uscito il paziente, la donna entrò nello studio, chiudendo dietro di sé la porta. Iniziarono a parlare e Suzanne raccontò tutto a Roberto e gli disse che si sarebbero dovuti vedere nel bar vicino alla scuola, per poi andare insieme a Mark e Jennifer all'ingresso dell'istituto, ad attendere i ragazzi. Trascorsa circa un'ora, si avviarono verso il bar, lì vicino, per bersi un caffè insieme a Mark e Jennifer e, visto che c'era ancora del tempo, Suzanne lo occupò per fare le presentazioni. Durante i vari discorsi che stavano affrontando, Roberto vide l'incredibile somiglianza di Michael con suo padre, sia nel modo di parlare, sia nella gestualità, eppure in quel poco che era riuscito a captare dal suo carattere, che era evidentemente molto fumantino. Ad un certo punto, Roberto interruppe tutte le chiacchiere, guardando l'orologio e facendo notare che era ora di dirigersi all'uscita della scuola. Ed eccoci tutti lì. In quella situazione imbarazzante, i genitori di entrambi i ragazzi attendevano i loro figli, in particolare le due donne e Mark, quel bellissimo uomo dagli occhi di color ghiaccio, che le aveva unite in quel destino così atipico ed imbarazzante. La mamma di Jason, Jennifer, rivolgendosi verso Suzanne, le disse «Tuo figlio ha attaccato sicuramente il mio. Lo vedo dal viso di Jason. Temo di sì». Vedendo la situazione molto tesa, li avvicinarono e li bloccarono, dicendo loro di raffreddare gli animi, perché dovevano fare con entrambi due chiacchiere e dovevano dare il buon esempio. Essendo i figli dei finanziatori della scuola, andarono a casa di Jason, dove Jennifer e Mark fecero accomodare gli ospiti, mettendoli al loro agio, e diedero l'ordine di imbandire la sala da pranzo. Nel frattempo, Jennifer chiese a Suzanne se le andava di seguirla. Lei lo fece volentieri, anche se con diffidenza. Jennifer la portò in una veranda fiorita, che si affacciava ad un giardino stupendo, e sorridendo disse «Questo è il paradiso mio e di mio figlio». Suzanne rimase a bocca aperta e, complimentandosi, le chiese alcuni consigli sul giardinaggio. Poi ne approfittò per chiederle perché avesse deciso di aprire il suo centro estetico proprio in Italia, e Jennifer sorridendo rispose «Quì ci sono i miei ricordi più belli». Le raccontò che le sue origini erano italiane e che tutte le estati, dall'infanzia fino all'adolescenza, le aveva passate proprio in quella casa. Voleva che suo figlio iniziasse ad avere una vita un po' più serena, magari iniziando proprio da quella abitazione dove lei era stata felice. Le due donne iniziarono a fare amicizia, anche se non era facile. Avevano avuto entrambe un figlio dallo stesso uomo. Dopo aver fatto due chiacchiere, ritornando in sala, videro che Jason non c'era e che Michael e Matteo stavano guardando le foto e i diplomi del ragazzo, Jennifer chiese «Ragazzi, dov'è andato Jason?» «Dopo che siete uscite se ne è andato pure lui». In quel momento Jason ritornò e ne approfittò per chiedere alla madre quanto mancasse per pranzare. Lei rispose «Hai già parlato con papà?» «No, ero andato un momento nella mia stanza». Allora Jennifer disse prima a lui con tono di rimprovero e poi a suo marito «Jason non sei stato molto ospitale». Lui abbassò lo sguardo e stette zitto. «Mark, cosa fai? Non inizi a parlare con i ragazzi?» Lui si girò di scatto perché non aveva sentito i passi delle due donne. L'uomo spesso era distratto e non coglieva i rumori attorno a sé. Infatti le rispose con tono infastidito «Aspettavo voi». Nel frattempo aveva fatto due chiacchiere con Roberto, il marito di Susanne, e con Matteo e Michael. fece accomodare i ragazzi e Jason chiese ai genitori, rivolgendosi in particolare a sua madre, di cercare di fare in fretta. Allora il padre, già infastidito dalla situazione, disse «Jason, è un discorso molto importante quello che vi sto per fare e lo voglio fare prima di pranzo. Per favore papà, almeno facci sedere a tavola e spizzicare qualche cosa». Mark era un tipo prepotente e purtroppo Jennifer lo conosceva anche troppo bene. Così intervenne dicendo «Dopotutto Jason non ha tutti i torti. I ragazzi ormai avranno un po' di fame, visto che sono usciti da scuola già da molto». Lui la guardò male con un'espressione del viso minacciosa e rispose «No, rimaniamo qua in sala». Il ragazzo infastidito rispose «Ok papà, ma ti prego fa veloce, io ho meno di un'ora per poter pranzare». Allora intervenne Suzanne chiedendo a Jason «Ragazzo, cosa devi fare di così importante che sei così di fretta?». Lui divenne rosso come un pomodoro e in modo timido rispose «Nulla, signora». Sua madre lo vide in imbarazzo e disse «Jason fa arti marziali, ogni giorno si allena in palestra, infatti fra meno di un'ora deve essere là e se mangia troppo tardi poi non riesce ad allenarsi bene». Jason intervenendo con un tono di voce molto dolce e timido corresse la madre dicendo «Veramente mamma non ci riesco proprio». Allora Michael chiese «Ma l'allenamento che devi fare è collegato con i diplomi e i trofei che ci sono in quella vetrina che guardavamo poco fa? Hai qualche manifestazione o gara per la quale ti alleni tutti i giorni?». Jennifer sorrise e disse «Sì, si allena quotidianamente per poi poter sostenere un esame per diventare sensei». A quel punto intervenne Susan dicendo «Che bello, quando hai l'esame? Possiamo venire a vederti?». Lui era molto riservato e con tonno gentile rispose «Signora, non faccio venire nemmeno i miei genitori perché mi crea imbarazzo, le chiedo scusa». A quel punto le due donne insieme dissero «Mark, per piacere, inizia a parlare e voi ragazzi state seduti comodi, ok?». L'uomo ci ripensò e disse «Dopotutto Jason non ha tutti i torti, se la cameriera ci dà l'ok potremmo andare a tavola». In quel momento la donna di servizio arrivò per dire che era tutto a tavola e che se lo desideravano potevano accomodarsi. Durante quell'attesa prima di pranzo era uscito un lato di Jason che a scuola non conosceva nessuno e che a Michael e Matteo faceva molta curiosità. Infatti osservavano e facevano molte domande insieme alla loro mamma su ciò che il ragazzo faceva nel suo tempo libero e Jason e Susanne rispondevano e esponevano in modo cordiale. Finite le spiegazioni e le domande si sedettero tutti. Mark iniziò a raccontare per filo e per segno tutta la storia, dal principio fino a quel momento. Ci furono le confessioni e i dettagli più imbarazzanti, il tutto durante la prima parte del pranzo. Mark raccontò totalmente la verità. I ragazzi ebbero due reazioni differenti. Michael che sembrava il duro della situazione rimase senza parole perché quell'uomo in quel momento pur ripetendo esattamente le stesse parole di Susanne aveva utilizzato un linguaggio molto più incisivo. Di conseguenza spiazzandolo e facendolo rimanere in silenzio totale. Mentre Jason che di solito era tranquillo e solare ebbe una reazione molto violenta. Si alzò di scatto tirando via parte della tovaglia e delle bottiglie che c'erano sopra, girò le spalle e scappò via. Il ragazzo era corso nella sua palestra personale. Lì iniziò a distruggere e a buttare tutto in aria. Gli ospiti vedendo che non ritornava chiesero «Dove è andato Jason? Perché non andate da lui per farlo ritornare?». Jennifer era molto intimorita nel rispondere perché suo marito la guardava sempre con un'espressione molto cattiva. Lui non aveva piacere che le due donne allacciassero un legame di amicizia ma vista l'insistenza rispose «Quando mio figlio è nervoso è meglio per tutti lasciarlo sfogare se vogliamo evitare spiacevoli inconvenienti». Allora intervenne Roberto chiedendo alla donna «È già capitato altre volte?». Jennifer tentennò un momento prima di rispondere. In quello stesso istante arrivò la cameriera, pallidissima e quasi terrorizzata. Jennifer subito le chiese se stesse bene e lei rispose «Io sì ma suo figlio… mio figlio… mio figlio che cosa? Ha fatto molti danni nella sua palestra». Jennifer preoccupata anche per la donna di servizio le prese i polsi e la controllò un momento dicendole «Tu stai bene? Io sì signora, sono solo un po' spaventata». Dopo poco sentirono dei passi. Era Jason che dopo essersi sfogato si era fatto una doccia ed era tornato in sala da pranzo. Non profilava parola e non guardava in viso nessuno. Si misi a finire di mangiare per poi alzarsi nuovamente. A quel punto suo padre intervenne dicendogli di non fare il maleducato e che se per una volta avesse saltato un allenamento non sarebbe accaduto nulla. Jason gli girò le spalle per andare via. Vedendo quella reazione il padre perse le staffe e gli afferrò con forza il braccio. Era molto nervoso e sua madre lo vedeva. Aveva paura di brutte reazioni ma non sapeva come poter bloccare quella situazione. Mentre gli invitati la guardavano in viso e la vedevano impallidire ad ogni movimento o reazione delle due figure maschili. Capirono che forse non era una famiglia perfetta e che il ragazzo portava una bellissima maschera per nascondere tutta la sofferenza e il disagio. Jason girandosi di scatto si liberò dalla morsa di suo padre dicendogli papà per favore fammi andare all'allenamento fra un'oretta torno qui. Per provare a calmare le acque Jennifer si alzò lo abbracciò fortissimo e gli disse ti prego tesoro non mi lasciare qua da sola con tuo padre e con i nostri ospiti. Jason la guardò negli occhi e chinandosi un po' gli si appoggiò al seno ricambiando l'abbraccio e dandole un bacio sulla guancia la prese per mano e si andò a sedere. Lui continuava ad abbracciarla e lei a coccolarlo finché a un certo punto Jason disse a sua madre se vuoi chiedo all'allenatore se posso ritardare un po' ma lo sai che non posso saltarlo ricordi l'ultima volta cos'è successo perché mi sono allenato poco e male. Lei con tono rassegnato rispose sì mi ricordo perfettamente hai credito per chiamare altrimenti usa il mio telefono. Lui si alzò con un accenno di sorriso fece la sua telefonata e ritorno a tavola per finire di pranzare ascoltava i discorsi senza fiatare finché a un certo punto spiazzando tutti si girò verso Michael e in modo un po' timido e un poco imbarazzato per tutto ciò che era accaduto e per le sue reazioni disse con un sorriso dolcissimo ho sempre desiderato un fratello gemello e anche se tu non lo sei veramente visto che siamo figli di due mamme diverse ma abbiamo in comune un padre siamo le sue fotocopie da ragazzo abbiamo lo stesso giorno e ora di nascita ti va di vivere comportarci come tali? Tu non sei per niente sconvolto o perlomeno arrabbiato dalla notizia ti è passato già tutto? Jason tenendo lo sguardo abbassato si fece una risata con gli occhi pieni di lacrime e disse certo che lo sono ma dopo tutto la vedo in positivo finalmente un fratello con cui condividere forse hobby e passioni e non intendo perderti Michael gli rispose in modo sarcastico tu sei un pazzo ma visto che ora ci sei e sei veramente mio fratello forse hai ragione dobbiamo imparare a conoscerci in fin dei conti appena sei arrivato a scuola mi sei subito piaciuto mentre bevevano il caffè in sala Mark disse ai ragazzi vi devo chiedere una cortesia Michael incuriosito chiese quale ragazzi ora che sapete tutta la verità vi chiedo di mantenere il segreto abbiamo un'immagine da mantenere e se si viene a sapere creereste uno scandalo inutile quella richiesta fu per Jason nella goccia che fece traboccare il vaso in quel momento feci un respiro profondo e tentò di mantenere la calma ma poi non ci riuscì e alzando la voce gli andò davanti al viso lo guardò fisso negli occhi e aggredendolo verbalmente gli disse come puoi chiederci questo hai già rovinato la vita a mia madre a Susanna ora la vuoi rovinare pure a noi impedendoci di dire che siamo fratelli non ti rendi conto di cosa ci stai chiedendo di fare a me non interessa nulla della tua immagine era su tutte le furie e roberto immaginando qualche brutta reazione provò ad andare a separarli ma non fece in tempo il padre provò a colpire Jason per dargli una punizione stanco dell'atteggiamento del ragazzo ma Jason come un fulmine lo prese per il collo e guardandolo con uno sguardo freddissimo con i suoi occhi blu lo scrutava mentre Mark cambiava colore del viso come se in quel momento fosse uno spettatore esterno e non si rendesse conto di ciò che stava facendo sembrava totalmente assente dalla realtà perciò vista la situazione intervenne roberto dicendogli ragazzo lascialo non ne vale la pena che intenzioni hai Jason lo guardò in viso e sua madre capì che stava per esplodere infatti in quel momento di rabbia rispose voglio restituirgli tutto il male che mi ha fatto sua madre palida come un cencio lo guardò facendogli no con la testa in quel momento si rese conto di aver svelato un segreto che lui e sua madre tenevano nascosto da tanto troppo tempo cioè la violenza dell'uomo Mark aveva sempre avuto un atteggiamento duro cattivo e freddo verso quel figlio così solare dolce e allo stesso tempo tanto riservato che sua moglie anche se con grande difficoltà tendeva sempre a difendere il momento si interruppe grazie a Matteo che ricevette una telefonata per confermare un appuntamento che aveva il giorno successivo chiusa la conversazione chiese a Suzanne se avesse confermato l'orario corretto lei prese dalla tasca il suo telefono e dopo aver controllato nelle note dia dell'ok per poi esclamare di non essersi resa conto che fossero già le 14 e 30 così fece capire a Jason che era tardi infatti lui aprì la mano sganciò il collo di suo padre e con un movimento veloce prese il suo borsone e corse via senza nemmeno salutare ci fu qualche istante di silenzio e di imbarazzo finché ripresero a parlare in modo quasi tranquillo al ritorno Jason non si aspettava di trovare a casa ancora gli ospiti si fermò prima dalla cameriera per farle sistemare il borsone poi prese una scatola con un regalo voleva un consiglio da parte di sua madre andando in sala la chiamò ma lei non rispose allora preoccupato alzò il tono di voce e lei gli disse vieni tesoro siamo in giardino Jason che era molto riservato e geloso del suo hobby non aveva piacere che la madre portasse le persone in quel loro angolo di paradiso ma non ne aveva mai parlato con lei la poveretta già doveva subire sempre il brutto carattere di suo padre non voleva crearle anche lui dello stress per cui non le diceva mai di non portare le sue amiche o in generale gli ospiti a visitare il giardino poiché per lui era un'invasione della loro anzi della sua privacy arrivò in giardino con il pacchetto e sentendo sua madre dialogare con una voce femminile era convinto di trovare solo la donna di servizio ma con grande sorpresa vide che non era sola con la cameriera infatti Jason non immaginava che gli ospiti fossero ancora a casa loro e che la voce che aveva sentito fosse quella di Suzanne perché non c'era più la loro macchina ed era convinto che sua madre fosse restata a casa da sola mentre lui era assente Roberto ricevette una chiamata urgente di lavoro e dovette andare in ufficio e rimase d'accordo con sua moglie e i figli che sarebbe passato a prenderli appena rientrata l'emergenza così congedandosi e ringraziando per l'ospitalità se ne andò Jason salutando tutti e scusandosi per il comportamento avuto due ore prima chiese a sua madre se le poteva far vedere una cosa perché aveva bisogno di un consiglio e così aprendo un piccolo pacchetto le fece guardare il contenuto Suzanne che era lì di fianco gli disse complimenti ragazzo hai un ottimo gusto è un regalo per una persona speciale lui arrossendo disse sì mamma avete già bevuto il tè no volevo aspettare il tuo ritorno sapevo che saresti rientrato ora e gli diede un bacio in fronte lui era veramente coccolone infatti una volta andati in sala si sedette di fianco a lei si appoggiò con la testa sul suo seno un gesto infantile che gli ricordava tanta dolcezza e protezione ricevute fino a quel momento una dolce abitudine che non voleva perdere e che a sua madre non dispiaceva mantenere Michael e Matteo lo guardarono e rimasero stupiti infatti non si aspettavano una dolcezza simile da quel ragazzo Jason si alzò e prese un vassoio con i suoi biscotti preferiti poi andando in cucina decise di preparare il tè personalmente in quel momento incrociò suo padre che gli chiese dove pensi di andare ragazzino Jason non aveva voglia di litigare nuovamente gli passò di fianco facendo finta di non sentirlo Mark non si era accorto che c'erano ancora gli ospiti infatti dopo che il ragazzo se n'era andato aveva salutato tutti con una scusa banale per poi rinchiudersi nella sua stanza da letto Mark lo seguì e gli strappò dalle mani il vassoio Jason in quel momento si arrabbiò tantissimo e si mise a gridare dicendogliene di tutti i colori non voleva avere altre reazioni violente i ragazzi videro tutto e Michael disse a sua madre ora mamma capisco da chi ho preso per il mio pessimo carattere e poi Suzanne chiese a Jennifer perché Mark si comporta così male con Jason ha dei motivi in particolare Jennifer sospirando prima si rivolse a Michael e poi rispose a Susanna tu sei molto meglio di tuo padre fidati te lo dice una che ci vive insieme da 15 anni hanno sempre avuto un rapporto conflittuale Jason mi vuole molto bene suo padre è molto geloso del rapporto che abbiamo tutto qua Suzanne guardandola le chiese in modo diretto ti picchia Jason da quanti anni farti marziali da quando ha imparato a camminare non volle rispondere all'altra domanda anche se era più che chiaro che fosse positiva videro arrivare Jason con il vassoio e gli chiesero se andasse tutto bene lui con tono alterato rispose finché sta lontano da mamma e da me sì preso il tè visto che Roberto ancora non era andato a riprenderli decisero di chiamare un taxi e una volta arrivato si salutarono giunti a casa Michael si diresse subito nella sua stanza era molto arrabbiato per non aver saputo la verità sul suo passato prima e per come si comportava l'uomo che lo aveva concepito ma dopo quella giornata si ritenne molto fortunato della scelta di sua madre mentre Matteo stava entrando con sua madre le disse sono fortunato ad averti come mamma sei la madre migliore che mio padre potesse scegliere per me e ora capisco perché fin da piccolissimi quando Michael ti chiedeva di raccontargli della vostra vita in America tu cambiavi sempre discorso lei rimase spiazzata e senza dire nulla lo abbracciò fortissimo dandogli un bacio in fronte mamma ora vado a studiare a dopo rientrato a casa Roberto chiese a Susanne fino a che ora si fossero fermati lei rispose che erano ritornati da poco poi non vedendo i ragazzi si informò su dove si trovassero in quel momento per Michael e Matteo ma in particolare per il primo fu molto stressante ma con un retroscena molto interessante i ragazzi capirono ancora di più quanto fossero fortunati ad essere una famiglia così unita anche se i loro destini non erano stati uniti dalla nascita infatti da quel momento in poi il rapporto fra Michael e Matteo divenne molto più unito e forte di quanto già lo fosse Clarissa ascoltò tutto il discorso finché gli chiese come fai a sapere ciò che è accaduto in casa di Michael e Matteo dopo che sono rientrati a casa Jason le rispose che erano stati proprio loro ad averglielo raccontato lei era seria stupita non sapeva cosa dire riuscì solo ad esclamare perciò siete fratelli sì ed è per questo che forse riesco a proteggerti da Michael e tutto il gruppo se tu ti fidi di me e me ne dai l'occasione lei era sconvolta da tutto quel racconto non sapeva né cosa dire né cosa fare se fidarsi o non fidarsi di lui dopo che gli aveva raccontato un episodio veramente importante della sua vita Clarissa guardando l'orario nel telefono disse ti chiedo scusa ma devo andare a prendere l'autobus altrimenti faccio tardi lui la salutò accarezzandole il viso e con un sorriso trascorsero diversi giorni e vista l'assenza di Jason da scuola i due fratelli preoccupati pensando che Mark avesse alzato le mani su di lui o su sua madre decisero di andare a trovarlo ma la reazione del padre che puzzava di alcol fu pessima e infatti chiese loro in malo modo che cosa ci fate qui Michael e Matteo si guardarono temendo il peggio e così presi dalla preoccupazione entrarono in casa un po con la forza perché Mark faceva di tutto per non farli entrare ed ostacolarli Jason che stava studiando sul divano sentendo un po di trambusto si girò verso la porta e con espressione serena e stupita li salutò ciao ragazzi come mai qui Michael rispose ci siamo preoccupati Jason non vieni a scuola non ci rispondi nemmeno su whatsapp e messenger va tutto bene Jason ma papà alzato le mani e lui in modo gentile rispose tutto bene grazie mille ragazzi sono influenzato e non posso permettermi di ammalarmi ancora di più fra un po l'esame devo essere in forma e oltretutto stavo cercando di studiare da solo in questi giorni per non rimanere indietro con il programma e visto che non so benissimo leggere in italiano e un po di difficoltà per via della grammatica molto complicata non volevo avere distrazioni perciò ho scelto di tenere il telefono spento e non vi ho mai risposto ragazzi avete visto clarissa avete sue notizie Michael rispose sì perché ce lo chiedi perché non mi risponde pensavo che tu Michael le avessi fatto altri dispetti lo sai che ci tengo a lei e non voglio che la tocchi Michael lo guardò e si fece una bella risata e poi gli disse non ti ho mai detto che avrei smesso di darle fastidio comunque non la sto infastidendo ora ti salutiamo dobbiamo andare a studiare se hai bisogno di qualcosa chiamaci ah giusto ecco questi sono i compiti Jason accompagnandoli alla porta li ringraziò dicendo loro che l'indomani sarebbe tornato a scuola il giorno dopo in apparenza fu come se non fosse accaduto nulla in tutti quei giorni ci fu quiete a clarissa sembrava un sogno per un periodo ci fu un calma e serenità nessuno le dava fastidio e piano piano grazie a Jason iniziava a dimenticarsi di Michael che la lasciò in pace come richiesto dal fratello Jason mentre parlava con gli altri vede arrivare di clarissa e fermandola all'ingresso le chiese ciao clary perché non mi hai risposto in questi giorni tutto bene ti hanno forse dato fastidio i ragazzi lei che non lo aveva notato fece un salto di paura e alzò lo sguardo poi gli si avvicinò e in modo timido rispose ciao tutto bene tu perché non sei venuto a scuola e poi ti chiedo scusa ma non avevo soldi nel telefono per risponderti no non mi ha dato fastidio nessuno immagino sia merito tuo meglio così mi hai fatto preoccupare poi prendendole le mani sollevò le maniche dei polsi per controllare se avesse delle fasciature lei lo guardò e impallidendo e gli disse cosa stai facendo lasciami subito stare lui guardandola in modo preoccupato e premuroso le rispose ti osservo stai tranquilla se avessi voluto farti del male non ti avrei raccontato il mio segreto non trovi lei lo guardò poi abbassò lo sguardo e svincolatasi dalle sue mani scappò via un po delusa e arrabbiata dopo che i ragazzi entrarono in classe arrivò l'insegnante di matematica che prima di iniziare la lezione chiese ad alcuni di cambiare posto uno di questi era matteo effettuata la nuova disposizione dei banchi degli studenti e disegnata la nuova piantina della classe iniziarono a fare il compito seguire le spiegazioni e correggere i compiti a casa durante le lezioni lei non gli rivolse mai lo sguardo mentre lui ogni volta provava a incrociare il suo clarissa di continuo lo abbassava per evitarlo così facendo attirò l'attenzione di matteo che le chiese clarissa che cosa ti è successo ti ho visto scappare in classe dopo che hai parlato con jason e ora sembra che tu lo voglia evitare perché non è accaduto nulla non mi hai mai parlato perché oggi lo stai facendo vuoi iniziare pure tu come gli altri a farmi male o a prendermi in giro lui spiazzato da quelle parole le rispose assolutamente no io ho sempre detto ai ragazzi di non darti fastidio anche se non mi hanno mai ascoltato se continui a respingere tutte le persone che vogliono avere un rapporto di amicizia con te però rimarrai sempre sola chiudendo il discorso non le rivolse più la parola clarissa si sentiva morire in quel momento aveva appena rispinto uno dei ragazzi più dolci di tutta la classe l'unico che veramente l'avevo sempre rispettata nello stesso istante suonò la ricreazione poi a rientro in classe clarissa chiese a matteo con voce quasi tremolante ti posso parlare un momento lui la guardò storto e le rispose ok basta che fa in fretta dobbiamo entrare non ho voglia di prendermi una nota lei lo vedeva lui era offeso e arrabbiato mentre stava per iniziare a parlargli le scese una lacrima in viso lui la vide e asciugandola con un gesto dolcissimo le disse allora che cosa mi dovevi dire lei non riusciva a parlare abbassò lo sguardo mentre piangeva gli disse scusami per poco fa non volevo offenderti sono una stupida hai ragione su tutto lui apprezzando il gesto la braccia stretta e asciugando le le lacrime le disse non c'è bisogno di piangere così basta solo chiedermi scusa io non faccio parte dei bulli che amano vederti piangere o soffrire le fece un sorriso e le diede un bacio in fronte ma lei era troppo dispiaciuta e in imbarazzo per l'accaduto e non riusciva a smettere di piangere jason nel frattempo vide tutta la scena non sapeva cosa si fossero detti e si ridò molto una volta calmata rientrarono in classe matteo temporaneamente era il vicino di banco di jason e quando si sedette nessun nuovo posto quest'ultimo colse l'occasione per chiedergli cosa fai ci provi con lei non sai che interessa a me matteo non gli rispose allora jason si infastidi ancora di più e alzando il tono della voce gli chiese posso sapere perché non mi dai una risposta matteo guardandolo si fece una risata per poi dirgli certo che sei proprio geloso è tu e michael avete persino questo in comune con questa affermazione matteo tirò l'attenzione di tutta la classe oltre che dell'insegnante ma che sorvolò e riprese la sua lezione clarissa sentì tutto ed intervenne dicendo a jason che doveva dirgli una cosa in privato e che non riguardava lui il discorso fatto con matteo pochi istanti prima poi rivolgendosi verso quest'ultimo gli chiese perché fai così lui sapeva perfettamente che la ragazza si intimidiva facilmente e che le davano molto fastidio le battutine o le risatine se la riguardavano o se riguardavano jason e anche se lui in quel momento non aveva detto nulla di male lei si mise sulla difensiva poi abbassando lo sguardo si rimise con gli occhi sul libro l'insegnante che conosceva le dinamiche di quella classe in quel momento preferì non allungare ulteriormente il discorso ma una volta terminata la lezione decise di fermare i tre ragazzi chiedendo loro spiegazioni sull'accaduto e pregando di non far ricapitare più nulla del genere durante la sua lezione i tre ragazzi chiesero scusa e promisero di non creare più discussioni durante un giorno di pioggia a jason e matteo venne una febbre molto alta di conseguenza non andando a scuola in quei giorni michael ebbe campo libero e non resistette più era più forte di lui non poteva farcela senza provocare clarissa così uno di quei giorni approfittando dell'assenza di entrambi i suoi fratelli decise di iniziare nuovamente a darle fastidio provocandola tutta la mattina forse in fondo al suo cuore aveva un piccolo interesse nei suoi confronti ma era tardi jason era stato chiaro la voleva conquistare lui non si sarebbe dovuto mettere in mezzo e visto quello che aveva fatto al loro padre non osava contrariarlo jason fece portare dal suo autista un pacchetto a scuola chiedendogli di farlo ricapitare dalla bidella a clarissa insieme a esso vi era un biglietto in cui il ragazzo le aveva scritto di stare tranquilla perché era protetta da lui clarissa lo lesse e accennò un piccolo sorriso suscitando gelosia e curiosità da parte di tutti all'interno c'era un piccolo portacchiavi a forma di orsetto e un cuoricino con una loro foto scattato in uno degli ultimi giorni passati insieme in america nelle settimane successive jason continuò a corteggiarla costantemente a portarle o farle ricapitare regali fino a che lei iniziò a fidarsi totalmente di lui infatti dopo il gesto che lui aveva fatto per controllarle i polsi clarissa si era allontanata nuovamente gli parlava giusto lo stretto necessario per la convivenza scolastica un giorno le regalò uno specchietto da borsa e una matita nera per gli occhi di un marchio costoso che lei non si sarebbe mai potuta permettere e le lasciò pure un biglietto con scritto ti prego mettila domani per venire a scuola così vede i tuoi occhi azzurri risaltare ancora di più di tornata a casa clarissa andò da sua madre chiedendole se avesse potuto accompagnarla dalla parrucchiera per tagliare i capelli la donna non fece nemmeno in tempo risponderle che suo padre in modo nervoso disse non puoi andare in questo momento non ci sono soldi i signori chianti poco prima del rientro della figlia stavano discutendo proprio della questione economica della famiglia creando una discussione molto accesa clarissa un po delusa e arrabbiata gli disse per me non avete mai né tempo né denaro e corse nella sua stanza su tutte le furie nella fretta le cadde il biglietto di jason i genitori lo raccolsero lo lessero e si guardarono sentendosi un po in colpa perché in quel momento leggendo le parole del ragazzo ricordarono il discorso fatto con il professor rossi ripensando a quando egli fece notare loro il fatto che la ragazza avesse bisogno di essere un po più compresa da loro la mattina dopo clarissa era ancora molto arrabbiata e decise di non rivolgere la parola ai suoi genitori così mise la sveglia molto presto fece colazione mentre tutti ancora dormivano e se ne andò via sua madre credeva che fosse ancora a letto e così decise di andare a svegliarla ma il letto era già rifatto e sua figlia non c'era notò però da sotto il letto spuntare un quaderno di scuola così si sedette e iniziò a leggerlo pagina per pagina riga per riga una dietro l'altra fino ad arrivare al giorno prima l'esse della sua prima cotta per uno dei bulli del bullismo che era costretta a subire dell'auto infliggersi dolore per provare piacere relax e infine jason nel frattempo clarissa arrivata a scuola si scontrò con jason che un po deluso gli chiese perché non hai messo la matita o forse sbagliato il colore o non ti piace il marchio lei imbarazzata rispose non sono capace a metterla non ho nemmeno i prodotti per poi toglierla e poi lasciamo stare scusa mi dispiace moltissimo facciamo tardi per la lezione d'italiano allora lui venne un'idea e le chiese ti fidi di me lei ci pensò un attimo visto tutto il trascorso e poi con il capo fece segno di sì jason la prese per mano la portò in un luogo lontano da occhi indiscreti le disse dammi il tuo indirizzo di casa che non me lo ricordo ti passo a prendere nel primo pomeriggio lei non era molto entusiasta dell'idea ma alla fine gli scrisse un sms il suo telefono non era abbastanza alla moda né per internet né per whatsapp mentre la guardava scrivere jason lo notò e sospirando pensò ecco un altro motivo per cui i ragazzi la deridono sempre entrate in classe tutti li osservavano con occhi scrutatori clarissa imbarazzatissima si sedette senza profilare parola mentre jason sorridendo disse buongiorno avete visto due fantasmi forse riccardo rispose no no volevamo capire solo fino a quando ti divertirai a prenderla in giro jason lo guardò malissimo e si nervosi tanto ma non gli rispose solamente perché in quel momento arrivò il preside con la nuova insegnante di matematica ella conosceva abbastanza bene i familiari di clarissa perché provenienti dallo stesso paese e perché era già stata a cena a casa sua qualche mese prima del suo trasferimento la cosa era curiosa una coincidenza del destino la persona alla quale qualche tempo prima si rivolse il professor rossi per avere informazioni su clarissa e con la quale aveva amici in comune era lì e clarissa non si sarebbe mai immaginata di ritrovarsi come insegnante di matematica melania la giovane donna che si era fatta aiutare dai suoi genitori lei era una donna carina di bell'aspetto con modi molto aggraziati e michael sghignazzando disse ai suoi amici questa ce la mangiamo tempo due settimane se ne va la professoressa melania sentì il commento e fece finta di nulla si mise alla cattedra e dopo le presentazioni iniziò la sua lezione dopo circa 40 minuti di spiegazione diede un questionario a tutti i ragazzi per verificare a che livello fossero ma iniziò a sentire un mormorio in classe in particolare le voci più insistenti erano quelle di michael e thomas due dei tre bulli ma rimase stupita del silenzio di riccardo michael e thomas non sapendo nessuna risposta iniziarono a chiedere aiuto a clarissa lei inizialmente li ignorava ma dopo varie insistenze jason scrisse un biglietto a thomas con scritto al posto di rompere le scatole a clary aprite i libri la prossima volta melania vide tutto ma rimase zitta al suono della campanella disse a clarissa che a ricreazione le voleva parlare da sola arrivato il momento la professoressa stava aspettando davanti alla macchinetta del caffè insieme al professor rossi quando clarissa li vidi assieme fu assalita da mille domande si avvicinò e disse eccomi prof mi voleva parlare i due insegnanti si girarono verso di lei e le sorrisero poi iniziarono a parlare del più e del meno fin quando non videro che si stava avvicinando il gruppetto dei bulli a questo punto il professor rossi suggerì a clarissa di stare attenta a jason perché forse non era il bravo ragazzo che voleva far credere a tutti e che stando in gruppo con loro la voleva proteggere ma addirittura stava diventando forse in modo inconsapevole il capobranco di conseguenza la sua fiducia verso di lui forse era mal riposta e rischiava con il tempo di essere ancora più bullizzata di quanto già lo fosse stata fino a quel momento lei frastornata gli chiese ma perché mi dice questo e due insegnanti guardandosi in modo molto serio le risposero fidati di noi ci dà questa impressione ma se ci sbagliamo siamo veramente felici tu lo conosci meglio di noi fai le tue valutazioni con attenzione in quel momento suonò la campanella e rientrarono tutti in classe all'uscita della scuola clarissa inscenò una telefonata e disse a jason che nel pomeriggio sarebbe dovuto andare via con sua madre lui sapeva che lei mentiva perché nel frangente in cui lei era andata in toilette con un movimento veloce e senza che lei se ne accorgesse le aveva rubato il cellulare dalla tasca per controllare quanto credito avesse nel telefono e se veramente avesse inviato l'sms con la sua via di casa e dato che oramai aveva il suo telefono in mano dedo un'occhiata a quanto credito le fosse arrestato così verificò che non ne aveva più si comportò in questo modo perché si era reso conto di essersi dimenticato a casa il cellulare di conseguenza non poteva verificare di aver ricevuto l'sms di clarissa ma lì per lì lasciò stare non voleva creare l'imbarazzo aveva scoperto tramite gli altri compagni di classe che la sua situazione economica era davvero difficile e che lei andava a scuola grazie al suo impegno e alle borse di studio poi chiedendo informazioni su clarissa e sulla sua famiglia quasi per caso scopri pure che suo padre si era messo nei guai con degli usurai e non sapeva come uscirne non vivevano in un piccolo paese e nemmeno una città così grande di conseguenza le voci soprattutto quelle negative circolavano in fretta infatti l'uomo pur di dare un'ottima istruzione alla figlia si era indebitato e rischiava di perdere l'appartamento dove vivevano ritornata a casa i suoi genitori la stavano aspettando con il suo quaderno in mano in quel momento lei si pentì di aver inscenato la telefonata con jason uscì nuovamente dalla porta e se ne andò provò a chiamare jason e si rese conto di non avere il credito si accorse pure di non aver inviato nemmeno l'SMS così nel frattempo suo padre riuscì a raggiungerla e afferratala per un braccio con tono serio e severo le disse dobbiamo parlare clarissa incapace di reagire rientrò in casa e subì tutta una serie di domande da parte dei suoi genitori finché a un certo punto qualcuno suona il campanello suo padre andò ad aprire la porta era un bel ragazzo gli chiese che cosa desiderasse lui disse solo che avrebbe voluto parlare con sua figlia in quel momento al padre venne in mente la descrizione perfetta del ragazzo nel diario di clarissa e lo fece entrare anche se con molta diffidenza e disse mia figlia in casa con sua madre accomodati pure jason è entrato in sala si presentò alla signora e dopo chiese a clarissa se le andava di accompagnarlo in un posto lei pensò che almeno uno squillo forse gli fosse arrivato non ricordandosi dell'assenza del credito nel telefono tentennò un momento guardò ai suoi genitori e disse no ti chiedo scusa ma non posso ci vediamo domani a scuola lui vedendo la situazione tesa non soddisfatto della risposta e un po deluso le chiese ma perché questa sera non vieni alla cena di classe e lei che non sapeva nulla gli disse nessuno me lo ha detto comunque non sarei venuta in ogni caso grazie mille per il tuo pensiero poi dalla tasca prese la matita per gli occhi e gli la rese dicendogli forse sarebbe stato meglio se l'avessi regalata a valentina visto che ci prova con te ora ti chiedo scusa ma devo studiare gli girò le spalle e se ne andò nella sua stanza a quel punto nell'imbarazzo comune i signori chianti gli dissero ti chiediamo scusa per il suo comportamento possiamo offrirti un caffè jason sorrise e li ringraziò mentre dal corridoio vicino alla sala si avviava verso la cucina per mettersi a tavola osservava la casa e le foto e poi affermò il caffè italiano è troppo buono lo adoro ne berrei a quantità industriali i genitori della ragazza divertiti gli dissero se vuoi ce ne è ancora un po te lo andiamo a prendere e lui non disdegnando l'invito accettò volentieri ad un certo punto il papà di clarissa lo iniziò a scrutare poi gli chiese ma noi ci conosciamo già o mi sbaglio dove ti ho già visto jason dopo una sonora risata rispose sì ci conosciamo già sono il ragazzo che per distrazione per poco stava urtando clarissa in america miami con la moto a quel punto i genitori di clarissa si ricordarono bene di lui e gli dissero sarà destino sono già due volte che ci rivediamo prima là e ora qui in italia bevuto il caffè jason ringraziò e disse se clary cambia idea siamo la pizzeria messina verso le 20 buona serata e grazie ancora e lascia sul tavolo la matita uscito da lì un po' frastornato dal rifiuto di clarissa andò al parco dove c'erano gli altri ragazzi che lo stavano aspettando e che vedendolo arrivare gli chiesero con una sonora risata americano ti sei perso fermò la moto li guardò e rispose in modo fermo quasi come se volesse iniziare una litigata no sono passato da clarissa per chiederle a che ora sarei dovuto passare a prenderla per la cena di classe ma quanto pare l'avete esclusa perché per quale motivo non le avete detto nulla te lo abbiamo detto che lei non è una di noi e che non la vogliamo fra i piedi infastidito da quella risposta chiese dove fosse michael pensando che dietro a quella decisione ci fosse lui lo indirizzarono verso il chiosco michael si trovava lì con valentina i due stavano discutendo animatamente lei vide arrivare jason e pensò che forse lui avrebbe potuto darle una mano voleva rifidanzarsi con michael mentre lui non era più interessato nemmeno ad ascoltarla jason chiamò suo fratello e gli disse con tono freddo e scocciato michael ti devo chiedere una cosa lui giratosi di scatto gli rispose ciao ti aspettavamo tutto ok cosa ti è successo hai un'espressione seria sei nervoso non fare il finto tonto con me tanto non funziona michael cadde dalle nuvole e gli rispose che veramente lui non sapeva di che cosa stesse parlando e che doveva spiegare tutto jason gli raccontò che era passato a casa di clarissa per sapere a che ora sarebbe dovuto andare a prenderla per la cena di classe ma lei non ne sapeva nulla michael lo guardò e girandosi verso i ragazzi gli rispose di andare a parlare con riccardo e thomas erano loro gli organizzatori della cena e della festa lui non ne sapeva nulla si era completamente tenuto fuori a quel punto jason molto indignato e allo stesso tempo un po rassegnato gli disse fammi il favore parlaci tu sono amici tuoi se lei non c'è non vengo nemmeno io michael lo guardò gli disse meglio che ti chiarisci tu con loro io non c'entro in questa storia valentina che aveva sentito il discorso dei due fratelli si offrì volontaria per parlare con i due ragazzi andò da loro e spiegò che jason era molto irritato per il mancato invito di clarissa e che se la stava prendendo con michael credendo che fosse una sua decisione non ci fu nulla da fare loro non la volevano né alla cena né alla festa organizzata subito dopo perché secondo riccardo e thomas era troppo chic per una stracciona come lei un po dispiaciuta per come l'avrebbe presa jason ed immaginandosi già la reazione che quasi sicuramente avrebbe avuto valentina andò dai due fratelli a riferire ciò che avevano detto i ragazzi allora jason convinto più che mai della sua decisione preferì rinunciare sia alla cena sia alla festa mentre accadeva tutto ciò il professore che era lì al parco con la sua fidanzata seduto su una panchina in attesa di andare a chiosco lì vicino per fare un aperitivo con amici sentì il tutto e pensò che quel ragazzo era molto bravo a ingannare le persone ma a lui non dava l'idea di essere una persona seria c'era qualche cosa che gli diceva di non fidarsi di lui la sua ragazza lo guardò e gli chiese conosci quei ragazzi che stanno discutendo sì sono miei studenti quelli che fanno spesso i bulletti a scuola e quel ragazzo con la moto pure lui dà fastidio alla ragazza che mi dicevi a quel punto alex si girò e gli disse lui sembra di no però non mi fido è il fratello di uno dei bulli la ragazza ha sofferto troppo e continua a farlo ora cambiamo discorso per favore mentre la coppia dialogava si sentì inaspettatamente un rompo di moto molto forte era jason che arrabbiatissimo era salito in sella e che prima di ripartire aveva ribadito a michael che non sarebbe andato a cena e che avrebbe potuto confermarlo pure agli altri per poi sfrecciare via con la moto come una scheggia verso casa sua thomas e riccardo pensarono che lui lo facesse apposta perciò diedero per scontato che fosse solo un capriccio del pomeriggio e che da lì a un'oretta si sarebbe presentato quindi lo contarono ma lo aspettarono inutilmente attesero qualche minuto poi si resero conto che il ragazzo era veramente arrabbiato e che ci teneva seriamente alla presenza di clarissa la cena e la festa si svolsero ugualmente ma si sentiva la mancanza di jason lui era allegro e riusciva ad animare sempre la compagnia pure quando stava poco bene il ragazzo se ne stette a guardare la tv con sua madre a chattare con gli amici che aveva lasciato a miami l'indomani all'uscita della scuola dopo che jason aveva ignorato i suoi compagni per tutte le ore i ragazzi lo avvicinarono chiedendogli spiegazioni per la mancata presenza alla cena di classe ma jason rimanendo nelle sue posizioni scosse la testa e se ne andò per la sua strada senza dare una risposta corse verso la moto per andare in palestra rischiava di fare i tardi e non si era portato nemmeno il pranzo a passo molto veloce si diresse dal suo allenatore e dopo essersi allenato per più di due ore consecutive per la durissima preparazione a cui erano sottoposti ragazzi che dovevano partecipare al campionato di marziali fece la sua meritatissima pausa al bar dove andò a fare uno spuntino per evitare di svenire trascorsi circa 30 minuti dopo essersi riposato decise di andare a fare un po di palestra libera controllando prima se clarissa gli avesse scritto ma nulla da fare la ragazza non ne voleva sapere lui era molto giù di morale così per liberarsi la mente andò nella sezione attrezzi dopo poco le si avvicinò una ragazza che in apparenza sembrava in difficoltà si chiamava sabrina era la compagna del professor rossi sabrina riconobbe subito jason e vedendo che era molto pratico degli attrezzi in palestra con una scusa banale cercò di iniziare un discorso con lui jason però non era dell'umore giusto e guardava di continuo il telefono allora lei dopo vari tentativi non andati a buon fine gli chiese aspetti la chiamata dalla tua ragazza lui si girò con un accenno di sorriso e con un sospiro le disse aspetto un messaggio dalla ragazza dei miei sogni e poi ancora in modo scherzoso giunse non sei una che molla facilmente le persone se ti interessa iniziare un discorso vero con una sonora risata sabrina gli rispose no effettivamente sono molto determinata piacere sabrina lui capì che lei non lo avrebbe lasciato stare perciò si misero a parlare prima le diede dei consigli su come allenarsi meglio senza farsi male poi parlarono del più e del meno lui le disse che solo da pochi mesi abitava in italia allora lei ne approfittò per portare il discorso sulla scuola chiedendogli se si trovasse bene a quel punto lui rispose che non si stava male ma che soffriva molto per la ragazza che gli interessava che ogni giorno veniva vessata e presa di mira dei bulli e che lui era entrato nel gruppo con loro proprio per bloccare questi maltrattamenti spiegò che era difficile la situazione complicata da spiegare in poche parole ci tenne a specificare che anche se lui era nel gruppetto cercava in tutti i modi di proteggerla ma la cosa era molto difficile perché lei era estremamente diffidente verso il mondo perciò anche se da una parte era riuscito a farla trattare un pochino meno male dall'altra lei non era molto collaborativa e spesso si metteva da sola in quella situazione di disagio con il suo comportamento auto escludendosi da tutto ciò che la classe faceva anche quando come nel suo caso provava a farla partecipare la ragazza spesso diceva di no pure a lui così se già spesso non veniva coinvolta nelle attività del gruppo in quel momento veniva proprio allontanata del tutto e se i bulli quel giorno avevano voglia di darle noia allora le davano fastidio e perciò lei in ogni caso non poteva stare tranquilla clarissa in modo consapevole non aveva mai fatto nulla di male per essere trattata in quel modo ma dal loro punto di vista lei si meritava quel trattamento ingiusto per il suo atteggiamento e per la sua personalità in poche parole lo facevano solo perché non provavano simpatia nei suoi confronti ed erano infastiditi dal suo modo di agire jason ne parlava con estrema dolcezza quella dolcezza che solo un ragazzo veramente innamorato avrebbe potuto usare mentre chiacchieravano guardava di continuo il telefono perché sperava di ricevere un suo messaggio anche se iniziava a perdere le speranze ormai era un giorno intero che lo ignorava completamente e lui ci stava male nel frattempo clarissa rinchiusa in camera sua più sicura che mai della decisione appena presa si mise a cercare tutti i regali e i biglietti che fino a quel momento li aveva dato jason mettendoli in una busta e decisa a riportarli tutti l'indomani con quel gesto aveva deciso di voler chiudere i rapporti con lui definitivamente non si fidava più di lui per lei il gesto di jason di guardarle i polsi fu come una minaccia aveva paura che la cosa si ripetesse perciò decise che non voleva più parlargli e così fu appena arrivata in classe appoggia il sacchetto chiuso sul banco di jason e sedette al suo posto tutti erano incuriositi ma nessuno osava avvicinarsi quel giorno jason era in ritardo non aveva sentito la sveglia e arrivato in classe trovò la busta sul suo banco guardando clarissa intui che era opera sua così al cambio dell'ora le prese la mano provò a chiederle delle spiegazioni sul gesto e senza nemmeno aver aperto la busta la prese e l'appoggiò di fianco al suo zaino lei infastidita la ripose nuovamente al suo posto e tirando via la mano si girò verso l'insegnante in arrivo chiedendo di andare in bagno perché non si sentiva bene valentina vista la scena fu felice e pensò di avere la strada libera per provarci con jason visto che con michael era andata male e lei aveva bisogno di trovare un altro bel ragazzo per non rovinare la sua immagine non considerava però che lui non poteva proprio sopportarla e che le rispondeva giusto per essere educato durante l'ora di ginnastica approfittando di un esercizio a coppie che il professore aveva detto di fare lei si buttò fra le braccia di jason davanti a clarissa riuscendo a strappargli un bacio lui fastidito la staccò subito e le chiese a voce molto alta tanto che tutti smisero di parlare valentina cosa stai facendo che intenzioni hai non provarci mai più e lei rispose con tono provocatorio e sarcastico non sono chiare le mie intenzioni in america non funziona allo stesso modo allontanandola le rispose a me piace clarissa non intendo accettare le tue attenzioni te lo avevo già detto un'altra volta hai la memoria corta lei imbarazzatissima e stupita di quel rifiuto rispose come fa piacerti quella sfigata che non ha nemmeno i soldi per pagarsi una pizza a quel punto jason guardò male valentina le girò le spalle chiedendo scusa all'insegnante per il suo comportamento e per la scena che aveva appena visto e se ne andò negli spogliatoi l'uomo era troppo buono per rimproverarli capì la situazione non disse nulla in fin dei conti pure lui era stato un ragazzino adolescente a jason rodevano le mani era troppo nervoso aveva pora di picchiarla nel frattempo vedendo quella scena michael si fece una risatta sotto i baffi e chiese al professore di andare nello spogliatoio l'insegnante acconsentì aveva visto che jason dal nervosismo che gli era salito in corpo stava tremando mentre si dirigeva nello spogliatoio maschile perciò lo fece andare per verificare se fosse tutto a posto clarissa invece rimase allibita non si aspettava che ci sono l'avrebbe difesa davvero da quella strega passarono due giorni e visto che era il terzo giorno consecutivo che non si parlavano pure per colpa di quella scena avvenuta in palestra clarissa e jason persero del tempo prezioso per chiarirsi in quei giorni c'erano delle giornate di sole stupende così il professor rossi propose di andare a studiare al parco che si trovava vicino alla scuola lì c'era pure un bellissimo chiosco e così decisero di accamparsi per le due ore di italiano e storia durante le lezioni l'insegnante trattava argomenti romantici come le poesie tutto ciò che era legato al giorno di san valentino e jason non perdeva l'occasione per cercare di attirare le attenzioni di clarissa ma senza buoni risultati appena tornati a scuola per prendere gli zaini clarissa si rese conto di aver dimenticato sopra il banco l'astuccio e un quaderno della lezione precedente dovette aprire nuovamente lo zaino riporre gli oggetti al loro posto e chiuderlo nuovamente perdendo così del tempo prezioso in quel momento suonò pure la campanella e clarissa molto di fretta senza salutare né rivolgere la parola a nessuno prese la strada per andare all'autobus sperando di non perdere la coincidenza per arrivare a casa era molto tardi e come temeva lo perse era disperata senza credito nel telefono e senza con tanti non sapeva proprio come fare in quel momento sentì il rombo di una moto fece finta di ignorarlo perché quel giorno oltre a jason pure i bulli erano andati a scuola con le moto e credendo fosse uno di loro cercava di tenersi lontano dal bordo strada non era nessuno dei ragazzi ma jason che immaginando che avesse perso la coincidenza seguì l'autobus fino a quando non la vide scendere l'affiancò e le disse clary fermati ti porto a casa io con la moto lei preferiva farsi più di dieci chilometri a piedi piuttosto che accettare quel passaggio era molto dubbiosa sul suo operato aveva tanti dubbi su di lui sul rapporto che si era creato e più di una volta ingrinato in più il professor rossi con il discorso che le aveva fatto l'aveva mandata in confusione ancora di più jason però insistette era determinato e tenace tentò molte volte e dopo averla convinta fermò la moto e le diede un casco dicendole fammi da navigatore non ricordo esattamente la strada arrivati sotto casa il padre di clarissa si arrabbiò molto con sua figlia e alzando il braccio con il palmo della mano aperto fece il gesto di darle uno schiaffo in pieno viso perché aveva fatto troppo tardi senza avvisare perché era andata in moto con quel ragazzo che avendo il casco non era stato riconosciuto jason distinto intervenne facendo il gesto di parare il colpo e disse non ci provi mai più a reagire in modo così violento tentando di colpire clarissa il padre molto infastidito si infuriò ancora di più dicendogli ma chi sei tu per dirmi come devo insegnare l'educazione o la puntualità a mia figlia il ragazzo lo guardò sorridendo si tolse il casco e rispose io signore non sono nessuno ma sua figlia per me è tutto le voglio molto bene e ha fatto tardi per causa mia ha perso la coincidenza dell'autobus perché gli ho chiesto di darmi un consiglio in realtà non era vero ma la voleva togliere da quella situazione lei però rimase abbastanza diffidente anche se in quel lasso di tempo era già la seconda volta che jason prendeva le sue difese ma c'era stato quel disguido in palestra e c'era molta tensione da parte della ragazza verso jason infatti dopo che il professor rossi le aveva confidato la sua perplessità sul modo di comportarsi di jason lei iniziò nuovamente isolarsi con quelle poche parole era riuscito a farle perdere quel minimo di certezze oltre che sicurezze che aveva piano piano acquisito jason per lei era diventato un punto di riferimento nel suo diario non faceva altro che parlare di lui di come si comportava durante la mattinata e di ciò che diceva era diventato in modo quasi ossessivo il suo primo e ultimo pensiero della giornata anche se in quel momento lo stava allontanando del tutto dal suo cuore il ragazzo per lei era una colonna portante per la sua tranquillità perso lui smise di parlare di nuovo sia in famiglia che a scuola in quei tre giorni lei iniziò pure a tagliarsi e il ragazzo insieme a michael e a matteo se ne accorse mentre percorreva la strada per andare verso casa e prima che arrivasse il passaggio da parte di jason nella sua testa decise che una volta a casa avrebbe iniziato nuovamente a scrivere il suo diario infatti clarissa in quel breve lasso di tempo aveva smesso di esprimersi con la scrittura non ne sentiva la necessità ma in quel momento di sconforto e di riflessione aveva modo di rimettere in ordine le idee per poi scriverle nel suo diario e riprenderlo da dove lo aveva lasciato dopo qualche giorno il professor alex rossi vedendo la situazione molto tesa fra jason e clarissa iniziò ad avere dei dubbi su ciò che aveva detto alla ragazza durante la ricreazione insieme alla sua collega aveva un sospetto che lo assillava cioè che forse aveva creato lui per un suo errore di valutazione un disguido e così cercando di chiarire i dubbi che aveva appena ne aveva l'occasione era sempre vicino a dove si trovava lei a meno che non fosse il suo giorno libero o si trovasse a lezione in altre classi a modo suo cercava in tutti i modi di starle vicino un giorno notò un atteggiamento più cupo del solito e pensò che si comportasse in quel modo per via di thomas e riccardo perché erano i ragazzi che ci andavano più pesanti con gli insulti e dispetti li fermò vicino all'ingresso della scuola mentre erano in gruppo e stavano facendo i bulli verso una ragazza un po più piccola di loro in quel momento michael non c'era si era dovuto trattenere in classe perché un altro insegnante gli doveva parlare notata l'assenza del ragazzo prima chiese a thomas e riccardo dove fosse michael appurato dalle loro parole che il ragazzo fosse ancora in classe e perdendo del tempo diede l'occasione alla ragazzina di allontanarsi e di arrivare quasi all'autobus in più colse l'occasione di chiedere ai ragazzi dove fosse Jason e loro naturalmente con il loro solito atteggiamento da strafottenti gli dissero che non era con loro e non sapevano dove fosse poi gli chiesero cosa volesse da lui e il prof tranquillamente rispose che avrebbe dovuto parlargli un attimo poi con atteggiamento investigativo gli chiese forse con michael Jason che era di spalle con un altro gruppo di ragazzi poco distante sentendosi nominare si girò saluto gli altri e rivolto verso il professore disse prof rossi cosa mi doveva dire lui gli rispose con un semplice cenno con la mano e gli fece capire che doveva seguirlo uscirono dalla scuola e arrivarono nella via parallela dove avevano entrambi il loro moto l'insegnante chiese senza troppi giri di parole ragazzo a che gioco stai giocando cosa stai facendo che intenzioni hai Jason non capiva e allora l'insegnante gli chiese in modo più diretto Jason che cosa vuoi ottenere da Clarissa qual è il tuo vero obiettivo a quel punto Jason capì cosa gli stesse chiedendo il professore e gli rispose che era interessato a lei e che cercava di proteggerla anche se con difficoltà visto che lei aveva smesso di nuovo di parlargli e non sapeva nemmeno il perché l'insegnante vide una grandissima sensibilità e sincerità negli occhi nell'espressione del viso e nella gestualità che il ragazzo che stava utilizzando in quel momento così soddisfatto della risposta è ormai sicurissimo di essersi sbagliato gli chiese scusa dicendogli che Clarissa non voleva più parlargli per causa sua Jason non capiva e si fece prendere dall'agitazione iniziò a fare un sacco di domande consecutive perché perché l'ha fatto che cosa le ha detto e ancora perché mi sta confessando questa cosa solo ora non si rende conto del rischio se non la proteggo io gli altri ragazzi inizieranno a darle fastidio non dico tanto mio fratello ma Riccardo e Thomas non aspettano altro perciò è per causa sua che Clarissa non mi rivolge più la parola da tre giorni il signor Rossi un po' imbarazzato rispose temo anzi sono quasi sicuro di sì devi sapere che voglio molto bene Clarissa e vorrei aiutarla a vivere una vita un po' più serena ma credo di aver fatto un errore grave di valutazione nel giudicare il tuo modo di fare ieri ho saputo che hai parlato nuovamente con Sabrina lei mi ha fatto ragionare con faccia stupita e perplessa Jason gli chiese ma una ragazza sulla trentina molto carina che non sta mai zitta è sua moglie e il professore no è la mia compagna comunque sia lei sembra che tu la conosca da una vita da come me l'hai descritta bene beh prof non passa inosservata non ha fatto altro che parlarmi durante tutto l'allenamento con la scusa che il suo personal trainer non era disponibile a quel punto chiariti due si salutarono e ognuno prese la sua strada il ragazzo scosso dalla notizia appena appresa decise di andare prima alla stazione dell'autobus per cercare di parlare con Clarissa poi vista l'ora pensò che ormai l'autobus fosse già partito e che lei forse era già quasi a casa e così decise di andare direttamente da lei e chiarire il tutto avvisò sua madre dicendo che forse non sarebbe rientrato per pranzo perché aveva avuto un imprevisto e così con lo stomaco vuoto si diresse direttamente verso la casa di Clarissa stette lì circa un'oretta guardando casa sua non aveva intenzione di suonare il campanello sperava che lei avendolo sentito arrivare sbirciasse fuori dalla finestra infatti Clarissa vide arrivare una moto ma all'inizio non era sicura fosse Jason perché Riccardo solo per un capriccio infantile si era fatto comprare la moto uguale a quella di Jason da suo padre e in quei giorni in cui Clarissa e Jason non si parlavano lui ne approfittava in modo sgradevole e cattivo infatti non perdevo occasione per andare davanti a casa di Clarissa e aspettarla solo per il gusto di infastidirla o peggio insultarla e deriderla Clarissa lo osservava voleva vedere bene chi fosse e fino a quando si sarebbe fermato davanti casa sua trascorse del tempo circa mezz'oretta e Clarissa capì chi era Jason e che sicuramente aveva intenzione di riallacciare i rapporti interrotti del tutto nella mattinata ma lei non intendeva farlo non voleva saperne di parlare con lui Jason con la sua presenza fuori da casa non riusciva a farle avere una reazione lui sperava di farla uscire in qualche modo visto che non voleva rispondergli al telefono ma non riusciva proprio a convincerla né a dissuaderla dalla sua decisione e così si piazzò lì davanti casa sua in attesa di vedere quale reazione avrebbe avuto Clarissa a un certo punto uscì sua madre credendo fosse un malintenzionato o qualcuno che perseguitava la sua bambina visto che vedeva da qualche giorno quella moto davanti casa loro così molto infastidita aprì la porta d'ingresso e uscì fuori per cacciarlo via ma alla vista di Jason disse che era inutile che aspettasse lì Clarissa non intendeva parlargli infatti un attimo prima che sua madre uscisse la figlia le disse mamma se è Jason digli di andare via non lo voglio vedere né ci voglio parlare Jason capì che Clarissa era determinata a mantenere le distanze passarono altri giorni e settimane lui in tutti i momenti disponibili passava di lì si fermava qualche istante guardava la sua finestra sperando di vederla ma lei era decisa non voleva avere più contatti con lui né a scuola né fuori addirittura Clarissa chiese al professore coordinatore di classe di cambiare sezione oppure posto pur di non stargli seduta vicino questo per Jason fu un colpo al cuore e al suo orgoglio ma non voleva demordere quella situazione si era creata per colpa del professor Rossi lui non c'entrava nulla e intendeva chiarirla il prima possibile l'insegnante consentì al cambio di posto e ora che lei era lontana dal banco di Jason lui aveva più difficoltà a proteggerla perché anche se non parlavano in quel periodo appena Jason si accorgeva di qualche dispetto che le stavano per fare o come era capitato varie volte di biglietti poco carini che li attaccavano alle spalle o le incollavano la sedia lui interveniva subito per bloccarli impedendo molte di quelle cattiverie ma ora la cosa sarebbe stata impossibile da bloccare sul nascere e così Michael Thomas e Riccardo iniziarono nuovamente a prenderla di mira e a trattarla male finché un giorno al cambio dell'ora mentre attendevano l'arrivo dell'insegnante di inglese che era leggermente ritardo e Michael era andato a prendere un caffè con il permesso dell'insegnante di matematica Jason perse la pazienza e afferrati Riccardo e Valentina davanti a Clarissa disse loro ragazzi è l'ultimo avviso che vi do toccate di nuovo offendete Clarissa e non lo racconterete più in giro sono stato chiaro Matteo vista la situazione andò immediatamente alle macchinette e chiamò subito Michael dicendogli che Jason aveva perso le staff e che forse gli conveniva intervenire se non voleva che la sua ex e il suo migliore amico finissero all'ospedale vista la situazione Michael preoccupato a passo veloce rientrò in classe con Matteo intervenne e appoggiando le sue mani sulle sue gli disse con espressione preoccupata e tono un po' intimorito dai Jason cosa hanno fatto di così grave per farti arrabbiare in questo modo mica si tratta di nuovo di Clarissa lui infastidito di ripetersi e da tutta quella situazione senza pensarci gli rispose fatti gli affari tuoi e poi secondo te i tuoi amici di infanzia non hanno capito che la devono lasciare stare è vero che ora non ci stiamo parlando da giorni e lei ha voluto cambiare posto ma io non voglio per nessuna ragione che la tocchino o la prendano in giro sono stato chiaro da oggi in poi arrangiatevi sia con la squadra di calcio sia per il campionato delle attività scolastiche io con gente come questa non intendo averci più nulla a che fare e così fece il gesto di afferrare le loro magliette per poi cambiare idea e con uno strattone buttarli a terra riccardo si alzò per colpirlo alle spalle non sapendo che Jason fosse campione di arti marziali così si mise in mezzo Michael che si prese un bel pugno nello stomaco mentre diceva fermi ragazzi datevi una calmata ora siamo a scuola non ai giardini tutti rimasero stupiti da quelle parole e rivolgendosi a Clarissa gli assicurò che nessuno non avrebbe più fatto del male o fatto i dispetti almeno in sua presenza Michael capì che la situazione era troppo degenerata da un gioco infantile iniziato alcuni anni prima erano arrivati a rovinare la vita una persona infatti aveva saputo che lei era in cura dal suo padrino da circa due settimane per la precisione non è che lo aveva saputo ma l'aveva vista uscire dal suo studio e in un momento in cui l'uomo non c'era era andato a vedere la sua cartella clinica gli scoprì troppe cose brutte fra cui quello che lo colpì di più i tagli ai polsi ora capiva le fasciature e da quel momento decise di lasciarla stare prese per mano Clarissa e tirandole sulla manica e vedendo la fasciatura con sguardo e tono carino le disse lascia stare non ne vale la pena ok jason ha ragione sei speciale ora ho capito perché ha innamorato cotto di te e tenendosi la mano sullo stomaco si andò a sedere Matteo guardandolo con ammirazione lo seguì a ruota chiedendogli come ti senti Michael non rispose guardava in silenzio la ragazza Clarissa lo osservò senza parole era impallidita e terrorizzata non riusciva a muoversi Michael vedendo che lei continuava a rimanere immobile si alzò dolorante e appoggiandole un braccio sulle spalle l'accompagnò dolcemente al suo posto poi andò nuovamente a sedersi stava davvero male Riccardo aveva usato tutta la forza che aveva in corpo e non gli passava nemmeno per la testa di chiedergli scusa non intendeva farlo per nessuna ragione jason si avvicinò a Michael e gli chiese hai bisogno di aiuto vuoi che ti porti in infermeria Michael sorridendo gli rispose non sei l'unico in grado di incassare un colpo in famiglia sto bene grazie ora passerà poi rivolgendosi a Riccardo Thomas e Valentina disse loro ragazzi ora dovete veramente farla finita abbiamo iniziato da bambini a prenderla di mira ora siamo persone adulte è ora di smetterla nessuno rispose a quelle parole ma tutti avevano considerato molto strano quel comportamento lo conoscevano quasi da quando era nato metaforicamente parlando e non era normale quello che aveva detto e fatto ma pensarono che avesse le sue ragioni poi riflettendo su quella frase detta poco prima da Michael non sei l'unico a saper incassare colpi in famiglia rimasero tutti perplessi e dubbiosi senza però osare chiedere nulla e limitandosi ad osservarli di continuo in quel momento arrivò l'insegnante d'inglese che aveva fatto tardi per via di un incidente stradale lei notò la situazione tesa ma non chiese nulla come era suo solito fare faceva sempre finta di non vedere qualsiasi cosa accadesse poi appoggiata la borsa sulla cattedra disse alla classe che sarebbe tornata subito andò nell'ufficio dei collaboratori scolastici e chiese che cosa fosse accaduto nella sua classe in quei dieci minuti scarsi di ritardo i due collaboratori in servizio si guardarono fra di loro e risposero all'insegnante che non era accaduto nulla effettivamente nessuno di loro sapevano cosa fosse successo visto che si erano affacciati solo qualche istante per dire di attendere la loro insegnante che avrebbe ritardato per poi lasciare da soli i ragazzi la prof in modo un po sospettoso decise di credere alla risposta ad atali e rientrò in classe iniziarono la lezione ma clarissa si distraeva perché continuava a pensare a ciò che era accaduto prima così a un certo punto l'insegnante disse clarissa cambia posto ti voglio nel banco fra jason e michael riccardo vai al posto di clarissa il ragazzo molto scocciato chiese perché devo prendere il posto di quella la non intendo spostarmi l'insegnante infastidita dalla risposta di riccardo rispose forza ragazzo fai quello che ti dico di fare io sono l'insegnante turo studente proprio in quel momento arrivò suo padre insieme al preside dovevano fare un giro di perlustrazione delle aule per dei lavori di ristrutturazione essendo lui uno dei più facoltosi finanziatori della scuola nello stesso istante però egli riconobbe la voce di suo figlio e siccome non gli piacque il modo in cui il ragazzo aveva risposto l'insegnante gli chiese di uscire dalla classe un attimo in aula c'era un silenzio assoluto si sentì solo un ciac suo padre gli aveva dato uno schiaffo in pieno viso dicendogli a casa facciamo i conti rientrarono in classe lui in imbarazzo con il segno sulla guancia di quello che era uno schiaffo cambiò di posto senza fiatare il padre di riccardo era un uomo che viziava molto suo figlio ma allo stesso tempo era una persona molto severa pretendeva il massimo dei voti e del rispetto tanto che lo aveva mandato in un collegio estivo l'estate precedente per cercare di educarlo ma evidentemente un periodo così breve non era bastato era molto arrabbiato e chiese all'insegnante davanti a tutti è la prima volta che mio figlio le risponde così o ci sono state altre occasioni la professoressa rispose a dire la verità accade spesso a sentire quella risposta il padre di riccardo venne ancora più serio e chiese all'insegnante e al preside conti di uscire un momento dalla classe andarono via tutti e tre e lui chiese in modo molto irritato alla professoressa e al preside che cosa aspettavate a dirmelo mio figlio è per caso un bullo a scuola ci sono casi di bullismo o cyberbullismo se sì ditemi i nomi degli interessati a sentire quelle parole il preside conti al professore si guardarono fra loro nessuno quasi respirava si bloccarono non riuscivano né a rispondere né a parlare si era creata una situazione di tensione di imbarazzo sembravano degli studenti impauriti scoperti sul fatto dal preside severo che intendeva punirli per la loro marachella nessuno si aspettava una reazione e una austerità del genere da quel genitore non ricevendo risposte dai due uomini l'uomo decise di entrare nuovamente in classe negli occhi di suo figlio vide vergogna negli occhi degli altri studenti solidarietà in quelli di clarisse jason amarezza notato questo dettaglio decise di fare una domanda tutta la classe ragazzi qui a scuola ci sono casi di bullismo non ricevette risposte solo silenzio e notò il cambio del colore del viso di alcuni studenti infatti alcuni ragazzi alcune ragazze divennero bianchi come degli stracci l'unica che non aveva mai cambiato espressione che era sempre stata seria essente allo stesso modo era clarissa il padre di riccardo notandolo pensò che la ragazza avesse qualche problema o qualche segreto nel frattempo rientrarono in classe sia il preside sia l'insegnante e videro che l'uomo si era messo alla scrivania prese il registro scolastico prima controllò gli assenti poi iniziò a chiedere ad uno ad uno la stessa cosa ma da nessuno ricevette risposta nemmeno dalla ragazza clarissa aveva paura che si avesse detto sì io sono una vittima di questi ragazzi loro gliel'avrebbero fatto pagare cara perciò rimase zitta i tre ragazzi michael riccardo e thomas iniziarono a scambiarsi degli sguardi e l'uomo ebbe la risposta alla sua domanda su chi fossero i protagonisti di questo orrendo modo di comportarsi e capì chi fosse la vittima visto che non riceveva risposte decise di chiudere lì il discorso poi rivolgendosi a clarissa le chiese come ti chiami e lei un po intimorita arrossendo rispose clarissa quel nome non era nuovo al padre di riccardo clarissa hai anche un cognome lei diventando di nuova rossa annuendo con la testa rispose sì il mio cognome è chianti le si girò verso il preside e gli chiese non è lei la ragazza a cui diamo sempre la borsa di studio e vari premi in denaro sì a lei rispose il preside molto bene clarissa sei la ragazza che cercavo e che fa al caso mio tutti fecero un'espressione stupita iniziarono a rumoreggiare per favore esci un momento dall'aula ti devo chiedere una cosa in privato continua il padre di riccardo lei era molto intimorita la situazione era strana c'era tensione ma per una volta tanto non si sentiva la vittima di qualche situazione negativa infatti che l'uomo ne dava sicurezza e senso di protezione solo per il fatto che stesse cercando di capire se ci fosse o no del bullismo vedeva che era veramente interessato a scoprire chi fossero i bulli per poi eventualmente punirli lo seguì fuori dall'aula lui iniziò a parlarle con tranquillità mettendola a suo agio aveva notato che era disagio provava molta tenerezza per lei sapeva che la situazione economica della famiglia non era tra le migliori era a conoscenza di suoi profitti scolastici ma non sapeva nulla del fatto che fosse vittima di bullismo da parte di suo figlio anche se in quel momento ne ebbe la certezza prima le riferì il motivo per cui l'aveva fatto uscire dall'aula spiegandole che voleva fare un progetto e assegnare una sorta di borsa di studio molto ingente ma aveva bisogno del suo aiuto per poterlo realizzare ne avrebbe fatto un contratto regolare se avesse voluto lavorare per lui lei era incuriosita e chiese maggiori dettagli su ciò che avrebbe dovuto realizzare lui gli spiegò che quell'anno avevano scelto la loro scuola per fare le olimpiadi studentesche e aveva bisogno di una persona di fiducia all'interno della scuola per organizzare e comunicare con il preside clarissa ascoltava con interesse e perplessità finché non interruppe il discorso dell'uomo dicendogli io la ringrazio per la fiducia che lei ripone in me ma a parte andare bene a scuola nei concorsi in cui provo a partecipare non ho una vita sociale non credo di essere la persona che fa al caso suo l'uomo rimase colpito dalla freddezza e dalla sincerità di clarissa si fermò a guardarla spiazzato e senza parole per qualche secondo e poi le chiese perché non è una vita sociale non ti trovi bene in questa scuola lei abbassò lo sguardo e con altrettanta timidezza e freddezza disse no non mi trovo bene non mi sono mai trovata bene ma non per mia volontà che significato hanno le tue parole noto molta amarezza in ciò che dici allora lei si fece coraggio e gli rispose io sono una vittima di bullismo da tanto troppo tempo ormai suo figlio è uno dei bulli che mi tortura di più da quando mi sono trasferita a vivere qui a sentire quelle parole al signor mariotti si girò al sangue chi a sé signorina clarissa chi sono gli altri bulli ormai è in ballo finisca di ballare e li assicuro che la proteggerò io lei abbassando lo sguardo mentre le scendevano le lacrime disse signor mariotti ho già parlato troppo c'è molto silenzio in classe significa che tutti hanno ascoltato il nostro discorso allora capendo la situazione la guardò e accarezzandole il viso le rispose se tutti hanno sentito tutti sanno che da oggi in poi nessuno potrà più toccarti compreso mio figlio ora sei protetta da me appena rientriamo ti scrivo il mio numero di cellulare memorizzalo subito nel telefono e domani darai una risposta alla mia proposta di lavoro se sarà interessata ti spiego in dettaglio inizieremo a lavorare fianco a fianco ok lei si asciugò le lacrime annunico la testa e chiese prima di dare una risposta la possibilità di parlare con i suoi genitori lui le lasciò il suo biglietto da visita entrano in classe e comunicò al preside non cerchiamo altre persone ho già trovato la ragazza che fa il caso mio si accetta e rivolgendosi al figlio con tono molto duro disse con te facciamo i conti più tardi il preside stupito rispose va bene come desidera lei una volta usciti dall'aula il signor mariotti chiese al preside in questa scuola avete altri casi di bullismo da quando mio figlio è diventato un bullo mi dia tutti i nomi l'articolo di giornale pubblicato qualche mese fa in cui si diceva che in questa scuola c'è il problema del bullismo era vero quindi il preside era in imbarazzo rispose sì è tutto vero ma non volevamo creare scandali proprio con voi che siete i finanziatori della scuola il professor rossi appena arrivato a scuola sentì parte del discorso e nella sua testa pensò finalmente qualcuno fra qua mentre sorseggiava il suo caffè preso al distributore delle bevande pochi istanti prima il signor mariotti salutò l'insegnante e gli chiese cosa pensasse di quella situazione lui rispose che dal giorno in cui aveva iniziato a lavorare in quella scuola aveva sempre cercato di risolvere il problema ma che il preside non voleva putiferio e di conseguenza metteva a tacere sempre tutto durante questo breve dialogo il signor mariotti si rese conto che l'insegnante provava a dargli degli input durante i colloqui ma che lui fino a quel momento non li aveva mai colti rientrato a casa il padre di riccardo raccontò a sua moglie l'accaduto nei dettagli e insieme decisero di punire il figlio la punizione fu molto dura appena terminata la scuola avrebbero mandato riccardo dagli zii che abitavano in svizzera dove avrebbe dovuto concludere gli studi fino alla maggiore età del ragazzo mentre la famiglia mariotti prendeva la severa decisione clarissa rientrata a casa raccontava ai suoi genitori della proposta di lavoro e della grande opportunità che avrebbe avuto nell'accettarla inizialmente ci furono attimi di tensione per loro ogni decisione della loro unica bambina per loro sempre piccola era un motivo di discussione erano scettici nei confronti di ogni iniziativa che desiderava fare la loro figlia non perché non avessero fiducia in lei ma perché la vedevano sempre come una piccola e ingenua bambina e avevano paura delle responsabilità che si sarebbe dovuta addossare alla fine però accettarono le motivazioni più che valide erano contenti che volesse costruirsi un futuro e partire proprio da quell'esperienza lavorativa i signori chianti dopo aver ascoltato con attenzione clarissa la lasciarono libera di scegliere come meglio credeva e la sostennero nella sua decisione il giorno successivo riccardo arrivò a scuola con il viso molto scuro era sconvolto tutti lo notarono e gli chiesero riccardo cosa ti è successo tuo padre ti ha punito veramente sì per colpa di quella sfigata hanno deciso di mandarmi in un collegio in svizzera dai miei zii che non posso proprio sopportare fino alla maggiore età questo significa non vedervi e non sentirvi più i ragazzi e le ragazze stettero zitti erano senza parole per quella punizione così esemplare clarissa che in quel momento stava passando di fianco a loro aveva sentito tutto da una parte era felice che finalmente qualcuno gli avesse messo la testa a posto o che perlomeno avesse iniziato a farlo con la punizione sicuramente avrebbe capito che non si sarebbe dovuto comportare più in quel modo egli avrebbe sofferto come lei avrebbe sopportato ciò che lei aveva sopportato in quei lunghi anni ma era anche molto dispiaciuta tuttavia non intervenne e andò per la sua strada trascorso qualche giorno il signor mariotti ritornò a scuola davanti a tutti chiese a clarissa quale fosse la sua decisione e le presentò il contratto da firmare si trattava di un accordo davvero vantaggioso e con un'ottima retribuzione lei era felice poteva finalmente contribuire alle spese di casa e togliersi qualche sfizio in quell'occasione clarissa chiese di parlargli un momento in privato e l'uomo ha consentì in quel breve istante gli disse suo figlio mi ha rovinato la vita ma non merita una punizione così dura ho sentito che ne parlava con gli altri compagni di classe e un po mi ha dispiaciuto per lui il signor mariotti la guardò con stupore e accennando un sorriso le disse tu tesoro perdoni troppo devi imparare a essere più cattiva e poi salutandola la invitò a rientrare in classe grazie alla fiducia dell'uomo clarissa smise di andare dallo psicologo acquisendo quella sicurezza in sé che per svariati motivi non aveva mai avuto tutto andava per il meglio stava riuscendo bene nel compito assegnatole finché un pomeriggio uscita da scuola un po più tardi venne aggredita con violenza dei ragazzi e delle ragazze della sua classe non volevano che lei rinunciasse al lavoro perché gelosi del fatto che fosse così brava a organizzare a progettare quell'importante ingaggio così per farle pressioni e spaventarla un po iniziarono a spintonarla e picchiarla lo avevano fatto per invidia e per vendicare riccardo clarissa una volta tornata a casa scrisse l'accaduto nel suo diario piangendo era molto giù di morale per l'accaduto e decise di uscire di casa come se non bastasse aveva litigato pure con i suoi genitori per l'ennesima volta così convinta più che mai uscì senza avvisare nessuno non sapeva cosa fare dove andare finché passo dopo passo che divenne un metro dopo l'altro si allontanò di qualche chilometro fino a ritrovarsi di fronte ad una palestra un po incuriosita dal nome decise di avvicinarsi non sapeva che fosse frequentata principalmente da ragazzi della sua scuola ma quando iniziò a vedere chi usciva dalla porta decise di mantenere le distanze a un certo punto vede uscire da prima michael con thomas e riccardo e poi jason e matteo avevano appena finito gli allenamenti ognuno di una disciplina differente li vide salutarsi e mettersi d'accordo per uscire dopo cena lei da lontano sentì tutto perché stavano parlando a voce molto alta a quel punto jason accese il telefono e fra le varie chiamate perse trovo quella di clarissa presa dallo sconforto si era messa a rileggere i messaggi che si erano mandati prima di chiudere il loro rapporto e per errore gli aveva fatto uno squillo jason casualmente al solo sguardo la vide di fronte a lui decise di lasciare tutto ciò che aveva in mano per andare da lei clarissa intuite le sue intenzioni girò le spalle per andarsene ma lui riuscì a raggiungerla tranquillamente cercando di parlarle anche se lei non ne voleva sapere la convinse a dargli una chance proponendole di parlare davanti ad un gelato con lo stato d'animo di chi ha bisogno di parlare senza sapere però con chi farlo in più senza portafogli né cellulare non sapeva cosa rispondergli non conosceva quel percorso né sapeva dove l'avrebbe portata quella strada inoltre era arrabbiata e imbarazzata quindi prima di dargli una risposta ci pensò qualche istante allora lui le rifece la domanda clary ti va un gelato oppure possiamo andare a bere qualcosa assieme se lo preferisci lei lo guardò si diresse verso la palestra dove lo aveva visto uscire e gli rispose hai lasciato il borsone con la divisa a terra è meglio che lo raccogliamo altrimenti domani come ti alleni jason la guardò scosse la testa accennò un sorriso sotto i baffi con tanta felicità nel cuore era molto lieto che lei gli concedesse questa possibilità di parlarle e le chiese mentre prendeva il portafoglio entriamo in palestra clarissa arrossendo un po impacciata gli fece di sì con la testa dicendogli che però era uscita senza nulla in tasca e senza avvisare nessuno una volta entrati presero da bere da mangiare si misero in un tavolo abbastanza appartato e così iniziarono a parlare era da tante settimane ormai che non si rivolgevano la parola avevano tanto da dirsi lei ad un certo punto però divenne triste lui preoccupato le chiese cosa fosse successo perché di colpo avrebbe avuto quel cambio di umore e lei trattenendo le lacrime gli raccontò tutto del fatto che si sentiva a disagio che non parlava nemmeno più con i suoi genitori aveva difficoltà a comunicare con questi ultimi perché non facevano altro che litigare dall'alba al tramonto e in più era stata picchiata da alcuni ragazzi e ragazze della scuola oltretutto era un po stressata per via del lavoro che stava cercando di portare a termine al meglio delle sue possibilità lui distinto l'abbracciò fortissimo e le bisbigliò nell'orecchio io sono sempre con te per qualsiasi cosa lei ricambiò l'abbraccio di jason gli si accoccolò addosso e si mise a piangere sfogandosi con lui in quel momento michael che si era dimenticato il telefono in palestra ritornò e vide la scena ma fece finta di nulla dopo tutto lui era fidanzato e anche se era innamorato perso di clarissa non poteva farci nulla suo fratello obiettivamente era il ragazzo giusto per lei passarono altri giorni e il gruppo di bulli ogni tanto continuava a darle fastidio ma ormai era diventato quasi un gioco a cui pure lei iniziava con calma a riderci sopra anche perché dopo l'intervento del signor mariotti ci furono molti controlli un giorno jason si diresse verso casa di clarissa aveva con sé una busta suonò il campanello e questa volta aprì la signora maria ciao jason quanto tempo come stai vuoi parlare con clary lui rispose di sì se era possibile alla battuta della signora maria poco fa non eravate insieme a scuola rispose con una scusa le disse che c'era stato un disguido durante le ore scolastiche con la figlia e che doveva dirle una cosa importante così la madre lo accompagnò davanti alla porta della stanza lasciandolo da solo ciao clary sono jason ti prego apri la porta ti vorrei parlare visto che a scuola da questa mattina non mi degni più di uno sguardo sono venuto qui da te per chiarire clarissa ascoltava ma non rispondeva jason provò più volte ma alla fine rinunciò lasciando la busta davanti alla porta andò in sala a salutare la signora maria mentre stava per uscire le riferì che non era riuscito a parlarci e se ne andò lei lo rincorse e gli disse jason aspetta non andare via che cosa è successo di così grave il ragazzo spiegò che una ragazza aveva provato a baciarlo davanti a clarissa per indispettirla e che lui quella persona non la sopportava nemmeno aggiunse che già un'altra volta per colpa della stessa ragazza e per un altro gesto uguale aveva litigato con la figlia allora lei tranquillizzandolo gli rispose aspetta qui in silenzio ok la famiglia di clarissa dopo aver conosciuto quel ragazzo così dolce speciale iniziò a seguirla un po di più nelle sue esigenze avevano capito pure leggendo il suo diario che lei lo ascoltava molto perché si sentiva speciale protetta grazie all'attenzione che lui le dava continuamente ma questo improvviso interessamento comportava grandi litigi con lei loro per essere più presenti le chiedevano della sua vita scolastica cercando un dialogo un confronto e una confidenza che lei non riusciva ancora a dare poiché non era abituata e le serviva del tempo per assimilare la nuova situazione in più cercarono nei giorni e nelle settimane successive di calmarsi di litigare meno fra di loro e di creare un rapporto con lei perché si resero conto dei molti errori commessi ma non era sempre facile con la scusa della busta lasciata dal ragazzo maria convince la figlia ad uscire dalla sua stanza e a parlare con lui almeno per ringraziarlo del regalo clarissa le rispose che lo doveva mandare via e che se avesse avuto voglia lo avrebbe contattato lei ma la donna con tanta pazienza trovò il modo di convincerla ad aprire quella porta dopo tutto sapeva bene come parlare con sua figlia e così clarissa alla fine si lasciò convincere da sua madre decise di telefonargli perché non sapeva che lui si trovasse ancora in sala infatti in casa c'era un gran silenzio e sua madre stava sbrigando delle pulizie con la televisione spenta sentì la suoneria del ragazzo così uscì dalla sua stanza per esprimergli la sua gratitudine e mentre apriva la busta il pacco gli disse jason non dovevi disturbarti e poi ti avevo detto che non volevo più parlarti il ragazzo sorridendo rispose lo sai come la penso no il giorno successivo clarisse la sua famiglia furono invitati a cena dal nuovo titolare di lavoro di suo padre infatti da poco i signori chianti dopo varie ricerche finalmente avevano trovato un'occupazione presso una fabbrica dove c'era un titolare molto bravo e attento alle esigenze dei suoi operai nonostante si conoscessero da pochissimo tempo crearono un buon rapporto di lavoro e di amicizia creatosi un giorno in cui mark andato in fabbrica per fare un controllo incrociò i signori chianti sapendo che erano stati assunti da pochissimo tempo li fermò e gli chiese di seguirlo in sala pausa arrivati lì gli chiese se gli andasse un espresso loro imbarazzati lo ringraziarono e accettarono con gratitudine così fecero due chiacchiere fra i vari discorsi uscì il discorso figli e scoprirono che erano nello stesso istituto dopo il caffè il titolare li salutò per terminare il suo giro di spezione a mark quella coppia rimase nel cuore infatti trascorso poco tempo decise di presentarli alla sua famiglia invitandoli a cena questo dopo aver riallacciato i rapporti con l'altro figlio nei mesi successivi iniziò a migliorare i suoi lati oscuri con grandissimo sforzo e impegno era cambiato molto era migliorato il rapporto conflittuale con jason di colpo sparì si rese conto che sfogava il suo dolore sul figlio e sulla moglie e così cercò di migliorare il suo pessimo carattere con ottimi risultati la sera della cena i signori chianti arrivarono davanti a una villa meravigliosa la padrona di casa fu subito molto ospitale e umile una volta messi comodi i padroni di casa chiesero scusa per l'attesa il loro figlio aveva avuto un piccolo ritardo jason con frenesia dissi alla cameriera di avvisare i suoi del suo rientro e che da lì a poco sarebbe andato a salutare passarono appena cinque minuti e il ragazzo corse subito a dare il benvenuto agli ospiti fu una sorpresa e uno stupore comune così a quel punto jennifer e mark chiesero vi conoscete già si mamma è la ragazza e la famiglia di cui ti ho parlato ci possiamo accomodare perché ci sono otto coperti mentre noi siamo in sei aspettiamo anche altre due persone mi hanno scritto che stanno arrivando la madre di jason infatti aveva invitato a cena anche il professore alex rossi e la compagna sabrina dopo il loro arrivo si accomodarono rimanendo in silenzio sorpresi poi si salutarono e jennifer chiese ai signori chianti ma vi conoscete pure voi e loro risposero sì sabrina proviene dal nostro paese il signor rossi è l'insegnante di nostra figlia di vostro figlio a quel punto jennifer incuriosita chiese dove avete conosciuto jason il ragazzo e la famiglia chianti al completo esplosero in una risata molto sonora poi ritornati seri risposero abbiamo conosciuto jason a miami stava per investire nostra figlia con la moto lo dissero con tono scherzoso perciò mark e jennifer credendo fosse una battuta si misero a ridere poi dissero dai non scherzate come lo conoscete jason rispose a sua mamma mamma ci siamo conosciuti esattamente in questo modo mentre sabrina la compagna del professor rossi l'ho conosciuta mentre mi allenavo in palestra fra un esercizio mal di testa fra una risata e una battuta terminarono la cena i due ragazzi un po annoiati dai discorsi degli adulti andarono nella stanza di jason dove clarissa rimase a bocca aperta la sua camera era grande quanto il suo appartamento ed era accessoriata di tutto punto all'interno mancava solo l'angolo cottura il ragazzo sorridendo le disse cosa fai lì alla porta entra dai lei lo guardava intimorita e perplessa l'unica volta che aveva accettato l'invito ad entrare in stanza di un ragazzo che credeva amico si era presentato poi il cugino che aveva provato a violentarla così clarissa lo guardava ma non gli rispondeva allora lui si avvicinò le prese la mano e le disse prego signorina jason non le vuole saltare addosso lei lo guardò e arrossendo gli rispose perché pensi che abbia paura che tu mi voglia saltare addosso perché ti conosco so cosa ti passa per la testolina e mi piace stare con te perché sei così controversa questo lato del tuo carattere mi fa impazzire e mi intriga molto lei lo fissò fece una bella risata ed entrò nella stanza a passo spedito e ancheggiando dopo che le ebbe fatto osservare tutta la stanza aver parlato e riso un po jason le chiese se volesse vedere il suo angolo di relax come lo chiamava lui uno dei posti dove si rifugiava quando ce l'aveva con il mondo lei seguendolo rispose dicendo di sì si diressero verso l'esterno passando in un corridoio talmente buio e freddo che le vennero dei brividi cercava di non farlo notare ma era molto a disagio jason la osservava spesso senza farsi vedere fece finta di nulla e allungò il passo verso il giardino una volta entrati lei rimase dapprima senza parole poi disse è meraviglioso ma lo curi tutto tu da solo e lui sorridendo rispose no clary mi aiuta mia mamma lo girò per bene era stupefatta a vedere tante eleganze bellezza tutta nello stesso ambiente finché si avvicinò in un angolo in particolare dove notò dei bonsai molto belli ce n'erano di tutti i tipi quelli con i fiori con i frutti anche quelli con le foglie verdi erano uno più bello dell'altro così senza pensarci clarissa gli disse che lei non ne aveva mai avuti che era sempre stato un suo desiderio averne uno e che una volta uscita da casa dei suoi avrebbe voluto provare ad acquistarlo e realizzare una piccola opera d'arte come quella che stava vedendo dopo un po lui chiese quale tipo ti piace e lei imbarazzata gli rispose è molto bello quello con i fiori d'arancio di solito non li fanno nei periodi più caldi jason si mise a sorridere disse sì ma qui siamo in un giardino riscaldato è tipo una serra clarissa rispose effettivamente fa molto caldo qui dentro non fece in tempo a finire la frase che lui sorridendo ne prese uno con i fiori d'arancio e donandoglielo le disse ora ce l'hai pure tu un bonsai il tuo desiderio è stato realizzato e se hai bisogno di aiuto mi puoi chiamare a tutte le ore della notte del giorno finalmente possiamo parlare in modo tranquillo come facevamo prima lei che ormai non pensava più a quello che era accaduto a scuola gli chiese jason a che cosa ti riferisci così approfittando di quella domanda jason riuscì di nuovo a chiarire con clarissa le spiegò che lui non voleva che valentina gli girasse intorno perché non lo tollerava proprio così ripresero a ridere e scherzare come prima dell'inghippo a quel punto lui le propose di ritornare nel giardino di fronte alla sala da pranzo e in quell'occasione non resistendo più le prese il viso fra le mani e le diede un bacio appassionato il loro primo bacio lei un po imbarazzata e frastornata accettò di buon grado stringendosi al petto quel dolce regalo risero e scherzarono per tutta la serata fino a che i genitori di clarissa non la chiamarono per rientrare a casa qualche giorno dopo i suoi compagni di classe decisero di organizzare un'altra cena di classe e questa volta lo riferirono pure a lei quel giorno jason non era andato a scuola per via di una visita medico sportiva che doveva fare periodicamente a clarissa non sembrava vero così tutta felice perché finalmente l'avevano incluse in qualcosa con la testa fra le nuvole una rosa rossa in mano mandata da jason assieme ad un pacchetto uscì da scuola non sapeva che le sorprese non erano finite lì jason infatti le aveva mandato un autista a prenderla clarissa si incamminò per uscire da scuola e subito dopo il porticato vide un autista con una limusine nera sembrava essere appena uscita dalla concessionaria l'autista appena la vide uscire la chiamò subito signorina clarissa signorina clarissa si fermi un momento un po' sfaventata clarissa non gli rispose e proseguì per la sua strada l'uomo salì in macchina e si mise a seguirla affiancandola mentre clarissa era al telefono con jason e l'autista le disse signorina clarissa mi manda jason mi ha chiesto di venirla a prendere lei che era molto diffidente si girò e gli rispose non mi importuni io non la conosco mi lasci in pace altrimenti mi metto a gridare jason che era in viva voce si mise a fare una grandissima risata lo faceva di cuore era proprio divertito e le disse clary tranquilla l'ho mandato veramente io dai fidati e sali lo sai che ti puoi fidare di me lei ancora insicura ma curiosa gli rispose dove sei in questo momento e lui sono a casa non sto molto bene sono raffreddato a proposito ti sono piaciute la rosa e il rossetto poi rivolgendosi all'autista gli disse per favore fai vedere a clarissa il viva voce del telefono così è più sicura che non la sto prendendo in giro a quel punto capì che forse era veramente lui nessun altro sapeva eccetto lui e lei cosa ci fosse all'interno di quel pacchetto non poteva essere uno scherzo di pessimo gusto dei suoi compagni di classe e così si fidò si fermò l'autista scese le aprì lo sportello per farla salire e ripartirono il tutto sotto gli occhi sbigottiti e invidiosi dei ragazzi della scuola il giorno dopo valentina michael e altre ragazze stavano fumando una sigaretta vicino al cancello prima del porticato della scuola e vedendola arrivare le chiesero in modo provocatorio e intimidatorio ti sei divertita ieri pensi di essere una di noi solo perché jason cerca di farti stare con noi e ti ha fatto il regalo non ti montare la testa solo perché ieri ti è venuto a prendere con una limousine non hai nemmeno un cellulare dei nostri tempi dove pensi di andare clarissa li guardò in viso senza rispondere proseguì per la sua strada dietro a clarissa c'erano il professor rossi e jason che avevano sentito tutto l'insegnante entrò a scuola mentre il ragazzo si fermò a parlare con il gruppetto accennando un sorriso e dando una pacca sulla spalla suo fratello gli disse buongiorno michael e buongiorno pure a voi ragazze michael non sono stato chiaro il primo giorno che ho visto arrivare a scuola clarissa vorrei ricordarti che quando io avevo deciso di non uscire più con voi per come vi comportavate con clarissa tu mi hai chiesto di rimanere in gruppo lo ricordi oppure devo farti notare o rammendare tutte le volte che è uscito il discorso clary e poi ripetendo l'affermazione disse te lo ripeto meglio nel caso non avessi capito il nome con il diminutivo intendo sul discorso clarissa michael imbarazzato cercando di arrampicarsi sugli specchi chiese sì ma perché questa domanda jason lo guardò in modo scocciato infastidito e poi con una bella risata gli rispose che aveva appena sentito tutto il discorso fatto dalla ragazza e ritornando molto serio aggiunse la prossima volta la faccio pagare molto cara a tutti e tre michael sbiancò e rimase qualche istante senza parole anche se quella frase fu detta sotto forma di battuta lui sapeva che era una minaccia bella e buona e che jason l'avrebbe messa in pratica visto che si stava stancando di ripeterglielo le ragazze lo guardarono qualche istante ma michael non sembrava riprendeva colorito lo osservavano e notavano che stava sempre di più come in apnea sembrava che il corpo fosse lì ma la mente fosse altrove muovendo le mani davanti ai suoi occhi gli chiesero ehi michael stai bene lui abbassò lo sguardo e continuando a non parlare girò le spalle alle ragazze si diresse verso l'ingresso della loro classe così le ragazze lo seguirono a ruota guardandosi tra di loro in modo stupito non capendo perché avesse smesso di parlare il professore decise di fare un lavoro di classe e mise i tre fratelli più valentina in un gruppo per la felicità di quest'ultima il fastidio di michael e jason come titolo del tema gli diede l'amore e rispetto dal vostro punto di vista iniziarono a scrivere ma jason appena poteva si alzava per andare da clarissa qualunque scusa era buona finché a un certo punto matteo iniziò a ridere di gusto non ne poteva proprio più era troppo divertito da tutta quella situazione sembrava una danza il professore che li stava osservando divertito senza dire nulla e godendosi lo spettacolo chiese a matteo cosa c'è di tanto divertente se ce lo dici farai ridere tutta la classe nulla prof mi scusi ma non riusciva a trattenersi e continuava a sghignazzare così clarissa si sentì nuovamente in tremendo disagio appena entrata in classe tutti l'avevano osservata dalla testa ai piedi solo perché si era messa un po di mascara come chiesto da jason via sms lei non era abituata a truccarsi e sapeva che lui ci teneva al fatto che lei si valorizzasse perché agli occhi suoi era bellissima perciò cercava di spingerla a tenerci un pochino di più anche per mettere in luce la sua persona e per la sua autostima poi il giorno prima c'era stata la storia della limousine e ora pure quella risata matteo vista l'espressione di clarissa disse clary guarda che non rido di tema di jason lei divenne rossa come un peperone mentre jason si alzò per l'ennesima volta andando da lei questa volta però fece una cosa davvero inaspettata le diede davanti a tutti un bacio molto appassionato sulla bocca era il loro secondo bacio e lei si sentì in paradiso per l'emozione lui a quel punto tirò fuori una scatolina con un anello di fidanzamento e senza che lei avesse il tempo di reagire le chiese di accettare la sua richiesta di mettersi insieme fatta il pomeriggio precedente alla spa di sua madre clarissa pensò come il giorno precedente che si trattasse di uno scherzo di pessimo gusto ma guardandolo negli occhi capì che faceva sul serio era consapevole del fatto che lui non avrebbe mai giocato con i suoi sentimenti perciò si armò di coraggio gli fece una carezza lo abbracciò con tutta la forza e la dolcezza che aveva arrossì e abbassò lo sguardo lui guardandole in modo molto tenero le sollevò il viso e mentre glielo accarezzava le bisbigliò all'orecchio ti amo e non ti lasci in pace finché non mi rispondi tanto ormai lo hai capito che senza di te non vivo più lei senza dare una risposta ricambiò il bacio tenendo le sue braccia attorno al collo lo abbracciò fortissimo ci furono tanti applausi oltre alle risatine rumorose a quel punto l'insegnante con un'espressione serena disse bravi ragazzi ma ora basta siamo in un'aula e finora vi ho lasciato fare e muovervi come meglio credevate lasciandovi la libertà come se foste fuori da scuola ma ora mettetevi giù e finite il compito di gruppo assegnatovi se il preside viene a sapere tutto questo rischio di prendermi una bella munizione solo perché vi voglio bene porto molta pazienza lasciandovi troppa libertà dopo queste parole clarissa rossa come un pomodoro per l'accaduto si sedette e si misi a finire il compito assegnatole con l'anello al dito clarissa era nel gruppo con veronica la migliore amica di valentina questa con tono un po invidioso le chiese posso vedere clarissa annui e veronica girandosi verso jason gli chiese devi essere proprio innamorato per regalarle un anello fatto a mano con dei diamanti veronica infatti aveva riconosciuto l'anello che suo padre aveva fatto per un cliente ma non si sarebbe mai immaginata che quel cliente fosse jason il padre per cercare di assecondare il ragazzo ci aveva lavorato per una settimana l'anello era molto particolare aveva i loro nomi incisi e fra una lettera e l'altra ci aveva fatto disegnare delle miniature porta fortuna oltre l'aver fatto incastonare dei diamanti da lì veronica capì che sarebbe stato meglio stare attenti a jason perché era troppo ricco e potente aveva paura che potesse veramente creare dei grossi problemi a tutto il gruppo così disse a valentina di non dare più fastidio a clarissa durante la ricreazione il professor rossi si avvicinò congratulandosi con lei in quel momento pure jason le si avvicinò e con un sorriso in modo scherzoso disse all'insegnante prof la ragazza sta con me giù le mani e gli occhi e l'abbracciò il professore divertito gli rispose tranquillo ad ognuno la sua jason poi le chiese clary hai chiamato tua madre per chiederle se puoi venire a pranzo da me lei rispose di no lui le porse il suo cellulare le disse per favore mi dà il numero di casa clarissa rispose che non c'era nessuno in casa e che era inutile chiamare in quel momento videro arrivare maria la mamma di clarissa lei preoccupata si scusò e a passo veloce andò da sua madre con voce decisa la chiamò e le chiese perché fosse lì la madre le disse che non doveva preoccuparsi così clarissa rincuorata le chiese se per pranzo poteva andare da jason sua mamma le osservò le mani le sorrise e le diede l'ok le diede anche dei soldi per la cena di classe perché doveva fare il turno pomeridiano e quello di notte e rischiava di non vederla per quello era andata a scuola all'uscita andarono direttamente verso la limousine che li stava aspettando jason aveva pensato di farle passare una giornata di coccole di viziarla infatti subito dopo pranzo la portò prima nella piscina riscaldata poi a fare dei massaggi dall'estetista dalla parrucchiera e a fare tanto shopping clarissa non era abituata a tutte quelle attenzioni infatti dopo un pomeriggio passato in quel modo si sentiva veramente stanca ma era sicuramente felice e anche molto imbarazzata ad un certo punto si fece seria si mise a pensare al giorno in cui avrebbe dovuto ricambiare quella giornata da sogno e si sentì una poveraccia jason vedendo l'espressione riflessiva sul viso di lei e immaginando il problema iniziò a coccolarla e le disse con tono molto dolce sei la mia meravigliosa principessa tutto ciò che ti dono e tutte le sorprese che ti facciano le rivolgo indietro a me basta solo stare con te lei lo guardò negli occhi e commossa lo ringraziò di cuore guardò l'orologio e gli disse che sarebbe dovuta passare da casa per cambiarsi a salutare suo padre lui con un sorriso le rispose mi sono permesso di acquistare dei vestiti per questa sera mentre ti provavi jeans spero di aver indovinato i tuoi gusti passarono da casa clarissa salutò suo padre come ci teneva a fare e tornarono nella villa di jason dopo un po di riposo jason disse a clarissa aspettami qualche minuto qui devo andare a prendere una cosa per favore rimani con gli occhi chiusi ok la ragazza seduta sul letto attese come chiesto da lui fino a che non sentì di nuovo la voce di jason che le disse amore apri gli occhi per favore clarissa apri gli occhi e vide jason con un sorriso meraviglioso e con una scatola bianca molto grande chiusa con un fiocco a forma di coccarda fatta a mano molto fine ed elegante in raso pizzo e seta dopo qualche istante di silenzio le disse clarissa questo è un regalo speciale e mi farebbe molto piacere se decidessi di indossarlo questa sera clarissa lo guardò emozionatissima e per ringraziarlo per quell'ulteriore regalo si alzò in piedi e gli diede prima un bacio appassionato poi prese il pacco e lo appoggiò sul letto delicatamente mentre jason la guardava pieno di gioia e di orgoglio felicissimo di come avesse reagito aperto il regalo clarissa chiese come hai fatto ad averlo non è in vendita in nessun negozio lo abbiamo visto solo in tv jason sorrise le disse clarissa oppure io i miei segreti ora ci dobbiamo iniziare a preparare dopo le varie prove ed essersi guardati molto spesso allo specchio i due ragazzi si prepararono e prima di andare alla cena di classe passarono in sala a salutare mark e jennifer per poi andare via la mamma di jason li fermò un momento sulla porta di casa e mise una collana per lei molto preziosa al collo della ragazza dicendole complimenti sei stupenda questo gioiello si abbina con il tuo vestito chiese al figlio con che mezzo sarebbero andati poi li salutò e loro andarono verso la moto jennifer aveva paura ma ormai il suo bambino non era più tale era un uomo e non disse nulla nel frattempo visto che i due ragazzi tardavano gli altri decisero di iniziare a prendere posto li videro arrivare e scendere dalla moto prima lui e poi lei dal fisico bellissimo molto elegante con un vestito attillato e all'ultima moda le ragazze tra cui veronica dissero guardate che abito che ha ancora non è in vendita nei negozi come fa ad averlo lei lo avevano visto solo in passerella a milano fra di loro si dissero ma jason non doveva venire con clarissa e michael forse si saranno già lasciati è una sfigata quella là e poi con tutti i soldi che ha si sarà preso un'accompagnatrice una escort e si misero a ridere allora riccardo rivolgendosi a michael gli disse come fino ad ora mi hai costretto ad invitarla e ora dici che è una sfigata michael lo guardò e gli rispose perché una sfigata non può mangiare una pizza con noi con quella battuta spiazzò tutti e chiusero il discorso jason davvero gentil uomo fece entrare prima clarissa e poi lui la seguì mentre chiedeva ad una cameriera dove fosse il tavolo dei loro compagni di classe gli altri incuriositi continuavano ad osservare quella ragazza per poi rendersi conto che era proprio la loro compagna di classe clarissa la sfigata o il brutto natroccolo come tutti la chiamavano si era trasformata in un cigno meraviglioso era irriconoscibile bellissima nessuno si aspettava che sotto quei vestiti così trasandati e spesso fuori moda che solitamente indossava ci fosse un fiore come quello che avevano ora davanti ai loro occhi aveva il fisico da modella la cena stava andando bene erano tutti carini e gentili verso di lei finché ad un certo punto non ci fu un po di tensione una loro compagna di classe arrivato il conto si trovò in difficoltà era una di quelle che parlava male di clarissa alle sue spalle e che l'aveva sempre trattata veramente in modo poco gradevole clarissa ne era consapevole ascoltando il discorso sentì che non aveva i soldi per pagare suo cugino thomas al posto di essere gentile di aiutarla anticipandole la sua quota prima la guardò in malo modo e poi imbarazzato decise di allontanarla dal gruppo questa ragazza si sentì in tremendo disagio ora capiva cosa provava clarissa quando tutti tra cui lei la deridevano a un certo punto clarissa le disse non ti preoccupare ti aiuto io ti anticipo i soldi della pizza poi appena ce li hai me li restituisci tutti rimasero spiazzati eccetto jason lui sapeva che la ragazza aveva un animo nobile oltre ad avere un cuore d'oro l'unica che si offrì di aiutare quella ragazza e risolverle il problema fu lei proprio la persona che fino al mattino prima era stata presa in giro e bullizzata poi thomas e riccardo dissero come fai a pagare il suo se non hai soldi nemmeno per te lascia stare facciamo noi grazie a signor mariotti un lavoro di conseguenza posso aiutarla in quel momento iniziarono tutti ad avere qualche rimorso di coscienza per come si erano comportati fino a quel momento con lei videro che era la più disponibile ad aiutare il prossimo mentre loro che erano veramente ricchi avrebbero abbandonato la loro compagna solo perché si vergognavano finita e pagata la cena andarono a mangiare un gelato al chiosco per poi ritornare a casa rientrarono tardissimo e clarissa presa dall'ansia e dalla preoccupazione invitò jason a fermarsi per la notte aveva paura di farlo andare a casa a quell'ora di notte i genitori rincasati da poco dal lavoro li videro entrare in casa chiamarono la figlia e arrabbiati andarono in cucina ma poi videro la scena i due ragazzi si tenevano per mano clarissa era imbarazzatissima e chiese ai suoi se jason si poteva fermare a dormire spiegando le sue ragioni aveva paura di farlo ritornare a casa con la moto visto che era molto tardi loro li abbracciarono e dissero al ragazzo di scrivere ai suoi genitori che si sarebbe fermato a dormire per la notte perché era tardi andarono nella stanza di clarissa che era attaccata alla sala e lei gli chiese di girarsi un momento il tempo di mettersi il pigiama lui che in realtà non sopportava nulla addosso quella sera fece lo sforzo di dormire in boxer lei era imbarazzata era la prima volta che dormiva in stanza con qualcun altro in particolar modo con qualcuno di sesso opposto lui aveva un fisico davvero statuario sembrava un modello si vedeva che faceva molta palestra jason notato l'imbarazzo della ragazza capì che era la prima volta che dormiva con qualcuno e sorridendo le disse se ti senti in imbarazzo mi rimetto la maglietta magari ti senti un pochino meno a disagio oppure se preferisci posso andare a dormire in sala lei accarezzandolo fece di no con la testa parlarono quasi tutta la notte fino a che non si addormentarono abbracciati lei adorava il profumo che lui usava e così si ritrovò a stringerlo forte come se desiderasse che quell'odore rimanesse impresso sul suo corpo l'indomani si sparse la voce dell'accaduto in tutta la scuola e si iniziò a sparlare alle spalle di clarissa iniziarono a girare voci che dicevano che avevano avuto rapporti sessuali già da un po e che quella sera come in altre occasioni presi dal momento non erano stati attenti e vi era il sospetto di una gravidanza quella mattina avevano fatto tardi a scuola perché jason aveva accompagnato clarissa in farmacia a prendere un test di gravidanza e avevano dovuto chiamare jennifer la mamma di jason perché essendo entrambi minorenni c'erano stati degli impedimenti per l'acquisto una volta risolto il problema jason l'aveva riportata a casa ed era stato in sua compagnia mentre lo stava eseguendo scoprendo una futura paternità perché clarissa era in dolce attesa jason appena appresa la notizia andò su tutte le furie e in pochi minuti riuscì a scoprire che aveva sparso la voce era quell'invidiosa di valentina che cercava di diffamare clarissa perché stava iniziando piano piano a prendere un posto nella loro società jason si diresse direttamente da valentina e dopo un'accesa discussione perse del tutto la calma se non fosse stato per clarissa che arrivata in quel momento a scuola ha prese la notizia e corse dal ragazzo per raffreddare gli animi valentina avrebbe rischiato grosso jason nero dalla rabbia le disse ringrazia la ragazza che hai diffamato stronza la prossima volta non la passi liscia mi sono stancato di te in più sta tranquilla che alla prima occasione le prenderai pure per oggi lui era cresciuto con un padre troppo violento anche verso la madre ed era perfettamente consapevole del fatto che le donne non si debbano sfiorare nemmeno con un dito ma preso dalla rabbia la minacciò in modo aggressivo e brutale senza riuscire a controllarsi era il primo che sapeva di dover tenere sempre le mani a posto e di dover rispettare il prossimo in particolare le figure femminili ma era troppo nervoso per tenere a freno le parole la ragazza spaventata dalla reazione inaspettata non riusciva nemmeno a muovere un muscolo non si aspettava una scenata del genere in pallidi clarissa si mise in mezzo e piano piano accarezzando viso e capelli di jason con parole dolci e tranquille lo convinse a lasciare andare valentina e a seguire lei lo fece ragionare dicendogli jason è una ragazza tu le donne non le tocchi me lo hai detto proprio tu e poi sai perfettamente che sei una persona buona e non alzeresti mai le mani su nessuno né donne né uomini tutta la scuola vide la scena e si creò un'aria tesa quasi di paura ora anche valentina e gli altri ragazzi capirono perché michael aveva così tanto rispetto e al tempo stesso un gran timore di jason e ritornarono loro in mente le minacce ricevute qualche tempo prima dopo qualche ora tutto ritornò alla normalità valentina chiese scusa a clarissa e la ringraziò per aver bloccato jason lui era di fianco a lei ascoltava tutto silenzioso osservandola con sguardo minaccioso era ancora nervoso per l'accaduto ma cercava di mantenere la calma proprio perché glielo aveva chiesto la sua fidanzata il giorno successivo quando videro clarissa arrivare a scuola tutti ebbero gran rispetto e la salutarono per primi avevano una nuova idea di lei così clarissa si trovò in un clima felice e disteso finalmente si resero conto che per tutto quel tempo l'avevano giudicata solo per l'aspetto e la sua condizione economica e mai per la sua anima dolce e gentile da quel momento in poi divenne la ragazza simbolo della non violenza e dell'altruismo riuscì anche grazie a quel gesto fatto in pizzeria a farsi conoscere per com'era in realtà e in un certo senso divenne la ragazza che non reagendo migliorò la sua condizione sociale ed economica il tutto grazie al suo impegno e facendo capire che con la determinazione le giuste persone al proprio fianco si può fare tutto i giorni proseguirono abbastanza sereni e il lavoro con il signor mariotti scorreva bene finché finalmente riuscirono a terminare il progetto sulla carta ora i giochi erano fatti se il progetto e il luogo proposto venivano accettati dal consiglio regionale sportivo avrebbero eseguito le olimpiadi giovanili nella palestra della loro scuola passarono i giorni senza avere notizie clarissa era molto nervosa e pensierosa lo era talmente tanto che riccardo le si avvicinò chiedendole clarissa cosa hai fatto va tutto bene lei prima lo guardò stupita poi gli rispose con un sorriso timido sì tutto bene perché me lo chiedi mi sembri nervosa così ho pensato di chiederti se andava tutto bene nient'altro in quel momento arrivarono tutti gli altri e jason dandogli una spinta di proposito gli disse stai alla larga dalla mia ragazza chiaro non voglio che ti avvicini a lei soprattutto se le vuoi dare noie poi rivolgendosi a clarissa le chiese amore tutto bene ti ha dato fastidio ti ha forse sfiorata lei sorridendo gli rispose tutto bene stai tranquillo mi ha solo chiesto perché sono nervosa allora lui guardandola negli occhi le chiese mi stai mentendo perché hai paura che mi arrabbi e che questa volta lo picchi veramente e lei abbracciandolo stretto a sé gli diede un bacio sulla guancia e ripete mi ha solo chiesto perché sono nervosa non ti sto mentendo e gli accarezzò i capelli e il viso jason rassicurato sorrise e abbracciandola stretta a sé chiese scusa al suo compagno di classe per la reazione avuta dopo qualche ora dalla conversazione il signor mariotti arrivò a scuola chiese al professor rossi di far uscire dalla classe clarissa perché le doveva parlare la ragazza dopo aver avuto il consenso dall'insegnante uscì e lì ricevette la bella notizia il progetto era stato approvato ora doveva svilupparlo dalla carta alla realtà da quel momento in poi dovevano lavorare fianco a fianco ogni giorno fino alla fine del progetto in classe c'era un silenzio quasi spettrale e grazie a questo sentirono tutto il discorso fatto alla ragazza in più sentirono che lei stava cercando di far togliere la punizione al figlio gli disse che riccardo dopo il giorno in cui lui era intervenuto in sua difesa era cambiato molto nei suoi confronti così gli chiese di togliere il castigo inflittogli tutti rimasero stupiti dalla richiesta della ragazza ma ormai sapevano che lei era nota per questi gesti perciò nessuno commentò più dopo aver visto l'atto di generosità fatto in pizzeria solo jason non capì perché lo volesse fare così all'uscita di scuola le disse che le doveva parlare arrivati alla moto lui si girò di scatto e con sguardo serio e severo le disse basta cercare di far togliere la punizione che spetta riccardo ti ha fatto del male per troppo tempo deve pagare per tutto ciò che ti ha fatto passare lei ci rimase male e senza parole abbassando lo sguardo gli rispose ciao jason ci vediamo domani vado a prendere l'autobus lui guardando l'orologio rispose ormai lo hai perso metti il casco che ti porto io a casa e lei un po intimorita rispose che preferiva andare a piedi piuttosto che farsi portare a casa da lui solo in quel momento jason si rese conto che senza volerlo l'aveva spaventata ed era stato troppo duro nei suoi confronti rimase qualche istante in silenzio poi le porse il casco che aveva comprato per lei e le disse ti chiedo scusa non dovevo parlarti con questo tono e non posso dirti ciò che devi e non devi fare clarissa gli girò le spalle e se ne andò verso la strada che portava all'autobus michael e gli altri ragazzi che avevano assistito alla scena ma non avevano sentito il discorso rimasero stupiti per l'accaduto così tentarono di fermare la ragazza ma lei non aveva voglia di rispondere a nessuno arrivata alla stazione si rese conto di aver fatto veramente tardi e decise di farsi la strada a piedi michael che l'aveva vista camminare da sola iniziò a seguirla riesce ad attirare la sua attenzione e provò ad iniziare un discorso con lei dopo vari tentativi finalmente la convinse a fermarsi così le chiese ciao va tutto bene hai litigato con jason cosa ti fa pensare che abbiamo litigato comunque va tutto bene mi andava di fare una passeggiata lui che conosceva bene quel suo modo di nascondere il dolore riprovò a parlarle clarissa cosa hai fatto dai me lo puoi dire hai visto che ultimamente non ti do più fastidio lo vedi che ti puoi fidare di me no non mi va di parlarne ora scusami ma devo fare molta strada per arrivare a casa e in moto non mi va di salire a quel punto guardandola deluso le rispose fai come credi io non ti forzo ma se sei stanca chiamami e ti vengo a prendere per darti un passaggio ok siamo diventati amici e in amicizia ci si aiuta lei gli fece un cenno con la mano per salutarlo e se ne andò per la sua strada dopo qualche minuto arrivò jason che gli chiese michael hai visto clarissa sai se è riuscita a prendere il bus non lo ha preso non ha fatto in tempo si stava avviando verso casa a piedi non vuole passaggi cos'è successo perché non l'hai portata a casa tu avete avuto discussioni jason abbassando lo sguardo gli rispose solo le ho parlato con un tono sbagliato e ora non vuole più rivolgermi la parola scusami tento di raggiungerla a domani accese nuovamente la moto e si mise a percorrere la strada finché non la vide era ferma seduta su una panchina era visibilmente stanca e affaticata si vedeva lontano un miglio che non si sentiva bene così si avvicinò e fermando la moto le si avvicinò clarissa non si era accorta di lui stava troppo male convinta fosse michael gli disse michael grazie di avermi seguita accetto il tuo passaggio poi alzò lo sguardo e vide che non era michael ma jason allora lo riabbassò velocemente e si girò dal lato opposto senza rivolgergli la parola lui sentendo quelle parole ci rimase male e deluso le rispose accetti i passaggi da mio fratello e non dal tuo ragazzo ti ho sempre rispettata e incoraggiata scusami se questa volta ti ho parlato con un brutto tono è solo che penso che devi lasciare che gli eventi facciano la loro strada lei lo guardò negli occhi senza rispondere si era messa in testa che non gli voleva rivolgere la parola così si rialzò e anche se stava davvero male per orgoglio si rincamminò verso la strada di casa mentre continuava la sua passeggiata o di dietro di sé altri rombi di moto oltre quello di jason che già sentiva così entrambi si girarono era tutto il gruppo riccardo scese dalla moto prese clarissa per mano e le disse grazie mille per il tuo aiuto ma jason ha pienamente ragioni devo pagare per tutto il male che ti ho fatto è ora che cresca fammi un favore sali sulla moto con jason e fatti portare a casa da lui si vede che stai male e se continui così rischi di svenire o collassare per strada vuoi far stare in pensiero i tuoi genitori lei ci pensò un attimo e poi rispose solo con un ok allungo le mani per prendere il casco da jason sali in moto con lui senza dire altro poi si accoccolò su di lui e abbracciandolo più forte del solito si fece portare a casa i ragazzi girarono le moto e ripartirono tutti insieme finché riccardo non ricevette una chiamata a cui rispose con il bluetooth integrato nel casco era suo padre si stava informando per saper dove si trovasse in quel momento una volta accertatosi che fosse con i suoi amici thomas michael e matteo gli chiesse di raggiungerlo insieme a loro a casa di clarissa doveva parlare con tutto il gruppo chiusa la conversazione riccardo mise la freccia alla moto e fece segno agli altri ragazzi di accostare una volta tutti i fermi riferì il messaggio di suo padre così fecero tutti in versione per andare a casa di clarissa aperta la porta di casa trovarono varie persone tutte preoccupate oltre i suoi genitori trovò i genitori di tutti i ragazzi erano tutti a casa sua perché dovevano parlare con lei tutti si accomodarono lei si sedette sulle gambe di jason era visibilmente affaticata e si vedeva che non stava bene stavano per chiederle quello che dovevano ma i ragazzi fecero cenno di aspettare prima di fare domande capirono che era successo qualcosa di cui a lei non andava di parlare così fecero finta di nulla il signor mariotti disse clari sono qui per complimentarmi con te e per dirti che ora fanno parte del progetto pure questi signori vorremmo creare una squadra di ragazzi che collaborano capitanati da te e vorrei chiederti se hai piacere di dirigere in questo gruppo i nostri figli lei lo guardò incredula e titubante stette zitta qualche istante e poi rispose non so se è la cosa giusta signor mariotti mi spiego meglio per me va bene creare una squadra ma crede che i vostri figli diano ascolto a me lei sa tutto allora tutti i presenti chiesero clorissa cosa ti riferisci lei abbassò lo sguardo e non rispose in compenso intervennero tutti i loro figli dicendo che per tutti quegli anni l'avevano trattata male e che era stata la loro vittima di bullismo ma che ora erano pronti oltre che a seguire tutte le indicazioni di lei a subire la punizione che si meritavano michael disse ai suoi genitori mamma papà io sono quello che ha creato il gruppo di bulli loro lo guardarono e molto indignati risposero che arrivati a casa avrebbero preso i giusti provvedimenti e chiesero scusa alla ragazza il signor mariotti prese dal taschino della giacca un assegno dicendole questo è il tuo compenso per il lavoro svolto finora se accetterai la carica raddoppierà lui voleva che i ragazzi per farsi perdonare lavorassero sotto il suo comando ed era determinato a convincerla lei visto l'assegno sbiancò poi rispose ok va bene ma perché insiste così tanto che motivo c'è lui scoppiò ridere disse sei una ragazza troppo intelligente per farti ingannare ho deciso che è parte della punizione di mio figlio se si comporterà bene imparerà la lezione io e mia moglie non lo manderemo più in svizzera fino alla maggiore età non so se i colleghi siano d'accordo ma io penso che se riccardo e tutti i ragazzi dovranno ubbidire a te senza poter ribattere impareranno a comportarsi meglio lei ci pensò e poi timidamente rispose se pensa sia la cosa giusta ok ci provo da ora in poi lavoreremo tutti i giorni insieme fino alla fine del progetto i lavori proseguirono in modo corretto e veloce i ragazzi ubbidivano in modo ligio e senza fare gli spiritosi si stavano comportando veramente bene sapevano di essere sotto il controllo dei genitori e non solo arrivò il grande giorno e michael riccardo thomas parteciparono con la squadra di calcio superarono tutti gli step fino ad ottenere la medaglia d'oro jason partecipò pure con le arti marziali e senza saperlo fece il suo esame per diventare sensei il giorno della premiazione il ragazzo venne chiamato sul podio e clarissa insieme genitori di tutti i ragazzi e ai giudici si complimentò con lui che ricevette il diploma la medaglia d'oro e la coppa jason emozionatissimo ringraziò tutti prese clarissa in braccio dandole davanti a tutti un bacio lunghissimo da quel giorno tutto andò per il meglio e lei finalmente oltre che un dolce amore ebbe il rispetto che meritava e una vita agiata ho scritto questo romanzo per testimoniare che la vita è fatta di momenti bui ma come la protagonista bisogna reagire combattere e alcune volte sapere perdonare per liberarsi dal bullo il romanzo ha preso spunto dalla canzone di georgia credo che stavo ascoltando con la mia bambina è nato tutto da lì